eccoci ciao a tutti nuovo video un nuovo canale avrete notato che il nuovo video del primo video del nuovo anno che registriamo sì o alla fine comunque siamo andati avanti fino a mezzanotte per la sessione preparatoria di cuore di mostro io ando scherzando però ce la siamo checchierato dai tra l'altro vorremmo fare un saluto a tutti i nostri iscritti come al solito ciao paolo ciao marco ciao luca ciao fabio e ciao lorenzo loris ecco che ha lasciato tipo 13 commenti sotto smash or pass sì lo so il violetti oggi perché è uscito e poi tanti auguri ad adriano celentano che è il suo compleanno non dovevi fargli a rowan atkinson sì ma poi ho detto c'è adriano celentano mi manca adrian la serie vento no adrian cazzo mi è sblocato un ricordo tra l'altro scusate l'ho pronunciato male si pronuncia adrian la serie vento tutto in maiuscolo grassetto che alcune puntate non sono mai stato smesso io avevo capito che erano state trasmesse ma quando nessuno le guardava così non dovevano più obbligare nessuno a vedere io ho ricordato che ne avevano trasmette tipo metà poi si erano fermati per un sacco di tempo poi ne hanno trasmessa l'altra metà ma quando le hanno modificate prima di iniziarle a trasmettere vabbè cos'è che vuol dire ah sì la scorsa sessione quella filler con e senza virgolette perché era quello che era alla fine dopo quella sessione ho scoperto un sacco di errori che stavamo facendo da un po' di tempo quindi ci saranno un po' di correzioni abbiamo nerfato i rillet finalmente io tra l'altro non ho ben capito come dovrei utilizzare i miei poteri psichici psionici quindi dovrai spiegarmelo in game è esattamente come è scritto quando sostiene più di un potere ai meno 2 alla cd causata da sostenere i poteri psionici noi lo consideravamo alla stregua del un meno 2 non lo facevamo è un meno 2 ma solo con i poteri psionici in realtà tu sostieni un potere psionico una delle tue rune e hai più della cd su tutti i tiri a differenza di quello che abbiamo fatto fino adesso che era il motivo per cui tu il combattimento eri anche così sgravo perché non avevi mai marus pur sostenendo un potere psionico che vi baffava tutti quanti contemporaneamente ok ma cioè questo se sostieni un secondo potere psionico contemporaneamente l'aumento da cd è sempre più 2 anziché diventare più 4 ah ok ok e questo vale per tutti i tiri però ok beh io tiro io tiravo sempre sul potere psionico però sì di sicuro avrò fatto dei tiri sbagliati su qualche altra statistica inoltre voi due che avete i poteri psionici i rillette ania vi ho fatto la macro per utilizzare il livello di potere rilasciato e trascendente adesso ok mi ricordo quelle vi mandate se ve la inserite nel vostro roster di di macro è un po più bello da vedere funziona diversamente rispetto al solito tiro dovete inserire manualmente il numero totale di dadi ira e poi il vostro totale di dadi in controllo psionico dobbiamo inserirla noi la macro giusto sì cioè quando premete per attivare il tiro vi chiederà quanti dadi ira e quindi sono uno più quelli derivati dal potere rilasciato trascendente e poi tutto il vostro punteggio di controllo opzione mi chiede azioni va bene era il modo più semplice che avevo per per fare quella macro senza diventare pazzo questo è la macro rilasciato bene e a parte quello cos'altro ah sì abbiamo nerfato il valore di resilienza di iris che col fatto che veniva colpita poco non ci eravamo resi conto di quanto fosse errata perché io ho fatto un controllo veloce delle schede non avevo controllato la parte destra della prima scheda di di iris e quindi non mi ero reso conto che si era dimenticato del fatto che le armature non si sommano a meno che non ci sia uno scuro ok però è comunque invulnerabile quella è sempre punti armature invulnerabili quindi quello prima rilasciato oppure qual è la trascendente e poi penso penso basta che non c'erano altre correzioni da fare ah sì io ho scazzato un sacco con il boss della scorsa volta perché continuavo a dimenticarmi alcune cose però appunto col fatto che irilet era ancora non nerfato e iris era ancora non nerfata penso che le cazzate si sono bilanciate a vicenda tra le due parti in questione ma quindi se io lancio per esempio occultare come prima mossa non ho malus no hai malus no senza aver lanciato ancora hai malus che malus ho scusa ah no quando lo lanci non hai malus ok lancio occultare con tutti i miei dadi poi se dopo lancio il fulmine energetico chiamato raggio incandescente hai malus ho il malus di due sì se invece lancio camaleonte ho sempre il malus di due sì ma non si somma dopo ok se però poi metto tre abilità e lancio il raggio incandescente ho il malus di quattro sì anziché sei ok quindi poi quel meno due resta sempre ok va bene più scopro su questo gioco più mi rendo conto che i poteri psionici sono effettivamente bilanciati quando ti ricordi di tutte le regole che esistono la difficoltà è ricordarsi non ci ricordiamo anche le regole base quelle delle comunque ad esempio io non ricordo ancora come funziona l'attacco di opportunità l'attacco semplice l'attacco complesso l'attacco totale i rillet quel tiro lì tu quando tiri trascendente hai cinque da dira perché sono quello di base più i quattro che ti fornisce ah ok perché quattro è il mio grado esatto ok bene adesso minchia sette minuti e mezzo di parte eh niente e tanto poi metti metti time stamp la gente schippa spero la gente vuole vedere soltanto l'ingre l'introduzione io che li saluto e poi il finale io che li saluto di nuovo perché la gente si intendi dire io che ti taglio mentre li saluti di nuovo perché quello che succede ogni volta perché ogni volta dico bene salutate salutiamo poi c'è un attimo di silenzio io termino la registrazione mentre io mi avvicino per terminare la registrazione tu ricomincia a parlare è sempre così ogni volta non smetto mai di parlare bene adesso che abbiamo perso otto minuti possiamo arrivare a dieci la scorsa volta la scorsa volta puntata filler in cui avete combattuto contro tiranidi vari mi sono reso conto che le norm le norm queen non esistono più nella loro attuale dei tiranidi ma è facilmente scusabile con il fatto che magari questa era una flotta che proveniva dal passato quando ancora esisteva c'è un vortice temporale in azione che ne so magari veniva dal passato non potete dirmi niente posso scusare qualsiasi cosa con questa stronzata ok bene ah si e poi continuo a fare confusione tra un hive tyrant e lo swarm lord che sono due cose diverse che però fisicamente sono molto simili però sono molto diversi in termini di livello di potenza quindi vabbè ah voi avete ammazzato un hive tyrant che è molto più debole di uno swarm lord che è quello che ha fatto a pezzi marneus calgar comunque ehm adesso quindi siete in rotta verso l'acros eh zayn è ritornato magicamente in mezzo a voi dopo aver passato tipo qualche ora ad essere insultato dai suoi ehm fratelli che si sono resi conto che è uno schifoso primaris ehm zitto tutto zitto questo ilazione non è vero nulla e eh avete ottenuto il supporto di giuliana gilead e della sua crociata fuori bond fin tanto che terrete i rilet lontana dalla sua vista io infatti mi ricordo che non facevo parte del dialogo che hanno avuto con giuliana si ti eri rimesso la maschera infatti no ma ero tipo anche andato a curarmi non ero proprio con loro no quella era la scusa che volevo utilizzare io però poi eri presente sulla scena ma con la maschera ah ok va bene perché non te ne sei andato come dicevi che avresti fatto comunque ehm siete in rotta verso l'acros volete fare qualcosa ma sta tizia qua è razzista anche contro gli psionici o è solo contro gli xeno le fottute streghe sono utili quindi ah vabbè non è specificato ok lei ha tipo due righe di lore nel manuale e basta ok ok sempre un piacere sentirvi giocare di ruolo quindi quando arrivate in orbita sopra avacrus quello che vedete sono lampi di una guerra che si svolge in superficie l'anello è circondato da navi di vario tipo però in sostanza col fatto che avete con voi un arc mechanicus dubito che ci sia qualcosa che vi possa impedire di attraccare in ogni caso senza contare che assieme a voi ci sono anche le navi della crociata gilead che avevano bisogno di riparazioni quindi siete una bella una piccola forza navale al momento effettivamente eh sulla superficie quelli che vedete balenare sono sia i lampi azzurri e gialli delle potenti armi adoperate dai titani eh sia i bagliori dei loro scudi del vuoto quando vengono colpiti dai raggi verdi delle armate necron che li stanno ponendo assedio quindi ehm non so devo scrivere un libro mi dite qualcosa eh per attaccare penso che eh dobbiamo andare giù in precipitazione diretta eh comunichiamo con la caest metallican caestus metallican si si è ancora in orbita è ancora vicino a noi ah giusto era andata via per prima mi ero dimenticato quel dettaglio quindi si la vedete ormeggiata al in un punto dell'anello ok quindi andiamo da loro ah iudex ultimatum ce l'avete fatta si ce l'abbiamo fatta abbiamo abbattuto i tiranidi con una botta di culo incredibile però si l'abbiamo fatto beh dai non era una botta di culo ci siamo impegnati come potete vedere le forze dell'adeptus meccanicus sono ingaggiate contro i necron ancora una volta quindi che facciamo eh a me sembrano in grado di riuscire a risolvere da soli la situazione dai andiamo direttamente con i titani si infatti a noi più di tanto non ci interessa andiamo a svegliare i titani poi se ne occuperanno loro i titani sono svegli stanno combattendo mi avete ascoltato mentre descrivevo la scena ah si e quello è il problema abbiamo contro i necron pratica ma stanno combattendo contro i titani i necron yes io non posso fare niente se un titano non riesce ad abbattere un necron di sicuro non ci riesco io quelle cose sono enormi ci sono usati come scudo direi possiamo fare questo un bombardamento aereo possiamo fare questo un bombardamento aereo contro i tirannidi e speroneremo la nave madre necron non possiamo fare un bombardamento se no se solo qualcuno avesse preso quel talento però no nessuno l'ha preso quel talento non distruggeremo il manufattorum è l'unica cosa importante del genere esatto ehm anche quello è vero davvero stiamo facendo un secondo abortaggio mh ehm i sensori rilevano un lord necron con una con una scheggia aktan sul campo di battaglia allora sul campo l'ho caricata l'immagine si però non non l'ho messa sono sicuro di averla caricata l'immagine vero? vero che l'ho caricata l'immagine? sono un deficiente non l'ho caricata l'immagine ma che cazzo questa cosa qua succede tipo ogni sessore ogni volta che padre non c'è bisogno di offendersi ogni volta può capitare sono disegnato a noi aspetta devo disattivare anche sono bravissimo a disegnare i necron allora allora sì comunque c'è effettivamente una nave madre e appena la trovo posso continuare questo discorso perché senza è un po' dura dove cazzo l'ho salvata? in veicoli? no ti prego dimmi che l'ho messa in veicoli no no non è in veicoli dov'è? no due braccia credo ho un po' di più per la maggior parte sì e hanno spade giusto? di solito hanno hanno cannoni con le spade ok non sono provato a disegnare un cannone spada però ci proverò una gun blade finalmente l'ho trovata e sono verdi metti verde ho trovato un necron con tre braccia cioè sei e se non mi sbaglio come aveva mandato il nome Nicola si chiamano tutti Steve i necron cioè volevo dire quelli che non sono assolutamente necron sono normali esseri umani giusto? il normale essere umano a fianco a noi ok ci sono eh ho aggiunto il verde eh purtroppo io non posso cambiarlo no perchè posso cambiarlo? si posso cambiarlo ma è la spada che è verde eh ormai io ho tutto verde mi dispiace ok 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 wow un dildo gigante ok no è stato Gali ha trasformato il mio dildo prima era una spada cannone meglio visto? questa è una spada cannone non lo so comunque ehm in orbita c'è effettivamente una nave che è più grande delle altre oh la poia allora questa è una tomb ship nave molto bella una nave tomba che è l'equivalente delle navi ammiraglie eh necron secondo la wiki dovrebbe avere un diametro di circa 15 kg e Faustinius aggiunge per quanto ne sappiamo ne sono state avvistate meno di 10 in tutto il tempo in cui i necron sono stati attivi nella nostra galassia e distruggerle è quasi impossibile perchè quando troppo danneggiate si ritirano quindi non le uccideremo noi oggi no a noi ci interessa danneggiarla abbastanza perchè si ritiri al loro interno c'è un portale che permette agli schifosi Xeno di teletrasportare le loro truppe sulla superficie del pianeta ok quindi se noi entriamo lì dentro e distruggiamo il portale e poi ce ne andiamo non possiamo fare una questa qui è molto più grande della nostra yes dieci volte la vostra è molto bella però come nave yes a me piace molto sì le navi necron sono molto belle ha una potenza offensiva può sparare in qualche direzione sì è devastante può sparare in tipo tutte le direzioni a parte dietro ok no ecco mi trovano gli schiacchi si muove solo ad L e come se non bastasse visto che i necron hanno un motore a zero in ezia super bullshit si può anche muovere come se fosse un caccia nonostante le dimensioni ok e allora non possiamo fare neanche la battaglia navale spaziale contro sta roba mi sembra una una buona idea la buona notizia mi dice Faustinius è che i necron non credono nell'utilizzo degli scudi del vuoto bravi possiamo bombardarlo all'ora lontano caricati silurie non farebbero abbastanza danni e il necroderma di cui sono composti i costrutti necron non la riparerebbe molto in fretta no quello a cui mi riferisco è un assalto tramite teletrasporto volete teletrasportarci lì dentro? ma si è una buona idea l'assenza di scudi del vuoto impedisce cioè l'assenza di scudi del vuoto non le permette di impedire l'abordaggio tramite teleportarium wow cioè sembra davvero un bel piano ma purtroppo io ho appena mangiato da poco e mia mamma mi ha detto che non puoi teletrasportarsi ti sei mangiato entro tre ore quindi è un po' pericoloso per me ma voi andate pure di solito sono io quella che si tira indietro però questa volta vedrei gli non voglio andare sull'nard necron 10 voi vi ricordate che il necron l'abbiamo ucciso one shottato perché sennò altrimenti lui one shottava uno di noi a grano uno sì ma perché abbiamo fatto soltare una bomba basta di farlo era tanto tempo fa quel cosa era praticamente spaventoso infatti io ho un cannone che è uguale a loro c'è un motivo se nessuno ha mai questa ha tanta voglia di teletrasportarsi a bordo di una nave necron perché avere a che fare con i necron è un suicidio tuttavia se il vostro obiettivo non è eliminare loro ma piantare una camica esplosiva sufficiente a danneggiare la nave e in particolare il teletrasporto per impedire l'invio di rinforzi sul pianeta vabbè dai ce la potremmo fare allora sembra giusto sì dai aspetta quindi è una missione stuelt cazzo ceriamo gli obiettivi cosa? ceriamo gli obiettivi ah giusto ho tirato gli obiettivi ah tra l'altro abbiamo dadi ira e aggiuntivi c'è si resettano i dadi ira giusto? beh sì ira rovina e gloria tutto rilettato 4 4 4 il personaggio io io meditare sulla separazione tra stati e se mortali io sfruttare la fama della propria specie per manipolare qualcuno iris a esaminare un interessante pezzo di tecnologia per determinarne difetti e possibili miglioramenti ma questo lo fa di balzo ogni volta beh dipende e ania a purificare i luridi nemici con la sacra fiamma lei non ha né piromanzia né un lanciafiamma e quindi è letteralmente impossibile eh ma magari il sacra fiamma è metaforico no in warhammer 40.000 è molto letterale ah ok ma credo che sia metaforico che lo faccia io potrei ordinare qualcuno di bruciarle questo è vero anche se la fiamma di irillet non è molto sacra visto che è uno schifoso xeno lei non può tipo utilizzare la biomanzia per prodursi un lanciafiamme dalle mani tipo non è un tiranide quindi ci trasportiamo vedo che avete scelto l'approccio stealth quindi sono contento casto occultare prima che andiamo là posso castarlo prima di trasportarmi giusto? vuoi anche lanciare prima di ancora di occultare una premonizione però ci vorrebbe mezz'ora ci vorrebbe mezz'ora l'attacco va avanti da giorni quindi vado allora porca vaffa ah posso tirare ok 8 successi premonito bastano esattamente qual è la tua domanda? qual è la mia domanda? la mia domanda è qual è il punto migliore di teletrasporto per essere più vicini possibili a distruggere il loro teletrasporto? ovvero dove si trova il loro teletrasporto? sotto la piramide ok non so se abbiamo bene questa informazione però un teletrasporto un po' più preciso nel caso non l'aveste notato questa qua piramide quindi dico la piramide è sul davanti o sul retro? quello è il retro quindi dico al tizio che ci deve trasportare so perfettamente dove si trova il teletrasporto teletrasportateci nell'ala destra no sto scherzando sotto la piramide per favore si anche perché altrimenti sono 10 km di scarpinata per arrivare fin lì ok bene la domanda che vi voglio fare è chi è che porta l'esplosivo? io direi o io o zain perché mi sa che siamo quelli che è meno probabile che scoprano ah ok va bene e se ci scoprono può essere possibile che magari uno di noi deve sgattaiolare e piazzare l'esplosivo e poi dobbiamo scappare tutti ah tra l'altro domanda una volta che piazziamo l'esplosivo per tornare indietro sono cazzi vostri ah ok io avevo varie cose per questa sessione avete scelto di infiltrarvi nella nave nemica non era l'unica strada ma dovete anche inventarvi qualcosa per uscire dalla nave nemica beh gli rubiamo una capsula non sai usare la tecnologia eh ma c'è Iris Iris è sicuramente la tecnologia dei Necron no vabbè ma è uguale dai va bene va bene va bene ci provo con un aumento di 2 lcd perché è tecnologia aliena ma tanto lei ha tipo 18.000 ladi in tecnologia ed è tipo l'obiettivo della sua sessione quindi inoltre potete sempre cercare di infilarvi nel portale prima di distruggerlo o una cosa del genere anche immagino potete rubare una un veicolo necro ci sono molti modi e vedremo quando siamo dentro esatto ma io posso usare i miei poteri psionici per teletrasportarci poi in caso fuori puoi? no speravo che nessuno non lo tasse puoi usare una dichiarazione narrativa c'è un ingresso alla webway qui vicino e usi la tua chiave per teletrasportarmi fuori quella chiave va su tecnologia abbiamo visto l'altra volta come non sono bravo in tecnologia purtroppo sei un eldari nato per uno e un solo motivo lanciare poteri psionici in tutto il resto fai cagare no vabbè la tua socialità è niente male effettivamente quasi una delle statistiche migliori tra gli eldari comunque vai lancio occultare ok prima tira il d66 per la cosa del warp ok ricordiamoci anche questa cosa che mi dimenticherò sempre 22 che tra l'altro non cambia probabilmente niente di particolare per me è puzza un attivo odore tipo spettri del warp per circa un minuto immagini etere di strane creature appaiono e scompaiono in un raggio di 25 metri dall'opzionico si muovono guffamente aspetta hai detto 22 ok sussurri nel buio tutte le fonti di luce entro 25 metri dall'opzionico si affievoliscono e le ombre diventano più fitte riecheggiano sussurri sinistri e chiunque li ode deve superare una prova di corruzione cd3 minchia chi fallisce subisce vulnerabile 2 per un round oh la madonna ok non era così tanto gentile quindi voi salite sulla pedana di teletrasporto del teleportarium che è praticamente questa sorta di altare grosso altare circolare in mezzo a una grande camera sto dando per scordato che avete fatto la transizione tramite kit gear da iudex ultimatum a caestus metallican ovviamente si giusto e questa pedana è circondata da psionici da vari macchinari che servono ad attivare questo potente retaggio anche abbastanza mal compreso di antica tecnologia il teleportarium non ha una una accuratezza del 100% o meglio una sicurezza del 100% sul funzionamento e quando ci salite i rillet aveva già fatto la sua premonizione però adesso tutto si spegne e tutto diventa buio vi chiedete se magari questa cosa facesse parte del teletrasporto e vedete che siete circondati da cerchie e cerchie di necron che vi fissano tutto intorno a voi ah fatemi la prova di corruzione a cd3 ah voi siete io non devo farlo tutti o anch'io devo farlo tutti cos'è che bisogna tirare contro la corruzione? fermezza ok ho un po' di fermezza potrai cavarmela avete tutti un po' di fermezza si quello in puto gloria eh gloria 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 madonna permette da dove la trovo? è sopra risultezza posso scambiare? ok si può scambiare con questo tiro? penso di si vai beh vorrei scambiare per gloria allora ok Agnya se vuoi ci sono due punti gloria E a questo punto mi fa che ti conviene usarlo entrambi Eh sì L'ho fatto? Sì sì, era tre Irillet incorruttibile come sempre Zane Anche lui nessun problema Cato, potevo scaricare Eresia, mai sentito niente Eh, potevo scambiare io Ah sì, è vero, potevi scambiare Allora prendiamo un glow Qua ritorniamo Molto bene Quindi era soltanto una cosa Dopo neanche mezzo minuto le luci si riaccendono e tutto torna normale Ok Ora lancio il mio secondo potere psionico Irillet fallo e ti ammazzo No, 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 no Ma guarda Stai tranquilla Di sicuro adesso andrà molto meglio E poi è il potere psionico che ci serve per nasconderci Quindi Ti devi attaccare un po' a cazzo Wow Wow Usa io Per favore Usa io Beh almeno è un critico intanto Devo ritirare tutti tranne uno E li ritiri tutti verdi Usa la macro per la gloria Possiamo tirare Posso ritirarne uno in più Sì Ok Ok Ho fatto prescienza Ok Ok non cambia gran tè però sento comunque nove Madonna Con nove Mi sa che non posso fare gran tè Scusa Abbiamo qui Allora Occultare a target cinque Però ti servono tre scambi per avere un altro bonus Giusto? Erano due o tre Sì Aspetta che guardo Mi pare che fossero tre Perché ne abbiamo discusso anche la scorsa volta Ah sì hai ragione Hai ragione E se togli sei dal tuo nove Rimani con tre Quindi Punto gloria Ah se abbiamo un punto gloria però Usalo Ne abbiamo due E' fatto un punto test No dovrei fare sei Per poter scambiare di più E prova Un punto tre E' due Ah due punti gloria Devo scambiare Devo scambiare tre Altrimenti devo fare a rilevare Da scambiare due Ok Ehm Scusa Abbiamo due di gloria Usalo Lo ho fatto io Scusa Dai vabbè ci provo Ah Per un punto Mi fa che per un punto non ce la faccio Quindi Fammi vedere una cosa Questo è un potere Eldar No Era E' a pagina Era divinazione Quello Quindi niente Posso attivarlo a target 1 Che comunque da E poi riscambiare comunque un dado Volendo Per un gloria E altrimenti dovrei diventare rilasciato Però non penso posso farlo post No Perché poi Tutti Tutti Tutte le volte Che userai un potere psionico Dovrà essere Anche adesso al potere rilasciato O se poi sali a trascendente Dovrà essere sempre a trascendente Ok ok Non puoi Chiudere La valvola Una volta che la apri Se non Quando tutto E non posso neanche ricassare Il potere psionico Adesso Non posso disattivarlo E ricassarlo Potresti Ma tu Che casti roba fuori Dal combattimento Segue delle regole Un po' strane Diciamo che in questo caso E' per questa scena Quindi Ok ok Ireleth lancia La sua solita Scorreggia Nebbiosa Che vi rende tutti Un po' più stealth E vi dà più difesa Si Quello che succede realmente È che tira fuori Il suo set di rune Che iniziano a fluttuare A mezz'aria Mentre lancia La sua magia E si becca un po' Di occhiataccio Dai tecnodepti Circostanti Ah devo tirare di nuovo Il 66? No E' soltanto E' soltanto Quell'altro Che è per forza Che c'è per forza Almeno una complicazione E appunto Siete leggermente Schermati adesso Dopodiché Viene attivato Il teleportarium Vedete Un anello di luce Che circola Intorno Al Al limite Della piattaforma Attorno a voi E sentite Sentite La grande quantità Di potere Che viene Accumulata Nei Condensatori Tutto attorno A questa stanza In un lampo Di saette E con un tremendo Mal di testa Il campo Che distorce Lo spazio Attorno a voi Vi proietta Per un istante Al limite Del warp Tra l'altro Interessante Perché nel libro Di Kayafaskane Che sto leggendo adesso Anzi in quello precedente A quello che sto leggendo Adesso Hanno effettivamente Spiegato come funziona Un teleportarium Praticamente Allunga un campo Geller Attraverso il warp Da dove vi trovate voi Fino al punto d'arrivo E vi ci spara Attraverso Quindi effettivamente Siete Una versione In miniatura Delle astronave In pratica Perché avete un campo Geller Attorno a voi Con tutto quello Che ne consegue Ovviamente Per fortuna Dura solo per un istante Ma vi sentirete Una merda Quando arriverete Ora Tiratemi tutti Un tiro Con un dado solo Quindi soltanto Il dado ira Per vedere Se succede Se vi succede qualcosa All'arrivo Come ho detto Il teletrasporto Non è sicuro Quindi un di sei Gloria Eeeee Ah ma Perchè La deposito Gloria Vabbè Niente Non è necessario No Non è Gloria Perché questo tiro Non c'entra niente Ok È un tiro di caldo Ok Yes Quindi Ma Posso ritirare? No No È soltanto Questa cosa Dipende totalmente Dal teletrasporto È una cosa Totalmente a caso E fuori dal nostro controllo Ok Quindi Irlet Iris E Anya Non hanno assolutamente Nessun problema Voi Vi materializzate All'interno Della Nave tomba Necron Un attimo che prelevo I vostri segnali Mi teletrasporto direttamente Nel Comando Quindi Zayn Finisce Tipo In mezzo A un muro E Anya E Iris Voi Fatemi Una Prova Di Resistenza Sopravvivenza Forse No Resistenza Pura L'era Sì Per I postumi Del teletrasporto Ok Nessun problema Dopo qualche secondo Vi ristabilite Irillet Che ha fatto sei Tu a momenti Non ci facevi Neanche caso Sei abituato A passare attraverso La webway Uno schifoso Teletrasporto umano Non è niente Ok Zayn Invece Tu vieni Sparato E finisci All'interno Di un muro Sei morto No Sto scherzando Non sei morto È quello che accadrebbe Nella lorma Visto che questa È una storia In cui voi siete i protagonisti Non muori sul colpo Quello che succede È che vieni proiettato Attraverso un muro Ma mentre sei ancora Praticamente Sfasato Due oggetti Non possono occupare Lo stesso posto Contemporaneamente Quindi ti Butterà fuori Violentemente Quindi Subisci Cinque ferite mortali È tipo Fallout È coglione Com'è che si chiamava Come Mirio Esatto È una cosa del genere Sì Quindi quando voi arrivate Sentite Di Zayn Che si materializza All'interno di un oggetto Già esistente E quindi Sostanzialmente Esplode Verso l'esterno E ricade a terra Iris Curami La gamba di questa statua È stata distrutta Va bene Vediamo cosa posso fare Però adesso siete Nella nave Necron E avete appena causato Un po' di rumore anche Medikit Medica Dieci Aspetta un attimo Io mentre Zayn viene curato Mi casto anche Camaleonte Ok Con le regole Aggiornate Così non puoi più Barare In bond Ovviamente Non ero Sapevole Di star barando Allora Deve tirare con due dadi In meno Oppure la difficoltà La difficoltà aumenta Di due Ok Bene Io ho dieci dadi Per curare Zayn Ok Camaleonte Si attivava con un Cinque Con un sette Sono abbastanza Sicuro con un cinque Ma sto andando a controllare Sette Per cui Zayn Ok Lo curi di una ferita Ah Peccato Era cinque Ok Quindi dovevi fare sette Quindi si è attivato Mentre Iris Purtroppo Il modo in cui funziona Il tiro veloce Per curare È che Devi fare tre E poi ogni scambio È una ferita curata Aggiuntiva Non posso più Scambiare Per la divinazione Giusto? Sì Conto ancora Allora provo a fare uno scambio Che se ho successo Forse posso Cioè Ritiri un dado Intendi Sì esatto Ma ho fatto Cinque e quattro Ma come cazzo è possibile? Va bene Ho fatto nove Quindi posso scambiare uno per Gloria Giusto? Ok Per Gloria Quindi siamo giusto? Sì Due Glore Due? Ne avete usati un po' in giro Ok Zane Iris ti ha dato una curata veloce Ma siete in territorio nemico Non avete molto tempo da perdere Non è un problema Irillet intanto È diventato ancora più invisibile Rispetto a prima Adesso sono diventato tipo una seppia Mi sto Mimitizzando col muro Non ci vorrei andare in stealth se possibile Ok Ricordate tutti Se volete andare in stealth Avete un dado extra per nascondervi Un dado tirano da giù? Zane tu ne tiri quattro in più Per via della tua abilità Di quando eri una recluta Oddio quale? No Di quando eri uno scout Hai più rango dadi alle prove per nasconderti Se il terreno ti fornisce copertura E sei in un labirinto Quindi Ok Quindi Dobbiamo tirare stealth Wow Irillet Ma sai cosa? Io Mi sa che ti ho io adesso Comunque bello Sto io Va bene Irillet vi ha dato un dado in più Per ciascuno di voi Ok Soltanto un dado in più Va bene Io dovrei tirare con otto dadi Perché ho già colpi due Sì però Fammi controllare una cosa Perché faceva l'esempio di Camaleonte Voglio vedere cosa succede Se puoi ti dico la pagina Camaleonte a pagina 178 No no Intendo proprio quando Faceva l'esempio dei Poteri mantenuti Faceva l'esempio con Camaleonte Quindi volevo vedere se In qualche modo Influenzava il risultato Della prova di fortività Ok Io ho fatto due Io ho insieme a fortività Adesso ho 11 Ho usato Io Quanti dati bonus Dai Che non ho capito Uno Uno Però lo do a tutti Non è andata Io ho fatto due Non è andata Tranquillo Ok Sì quindi in pratica Complicazione Ah hai fatto una complicazione Ok Comunque qui in pratica dice che Il malus si applica Quando la prova di furtività Ha un senso per fare delle cose Specifiche A quanto pare Non Aspetta Ad agilità Più Furtività Ah ok Nel senso Intende il totale Di furtività Sì perché qui Non fa Non usano Le Non usano Il Pool Della riserva furtiva A quanto pare Ok Quindi tiri normalmente Per la furtività Non ho il malus di due Perché ho due poteri Epsionici attivi No A quanto pare no È soltanto Per Magari Evidenti No No non ce l'hai È quello che posso dire Al momento Non ce l'hai Perché Io te lo chiedo Te lo chiederò Per sicurezza Allora anche le prossime volte Sai cosa Probabilmente potremmo dire Che è ridotta Di due Semplicemente Gli ultimi due dadi Che ho tirato Tanto sono Sono fasulli Cioè sono usciti falsi Quindi ho comunque Fatto 7 Sì che tiravo con No ma non riduci Il numero di dadi Che tiri Comunque Non è così Ah sì è vero Aumenta la difficoltà Ok Me le continuerò Anche questo Sembra Ok Quindi Cos'è il problema Che Annie ha tirato Una complicazione E che Iris Ha tirato due Sì esatto Ok Zain tra l'altro È quello che ha L'esplosivo Ricordiamocelo Sì infatti Ho voluto un po' Esagerare Ok Bene Ditemi come procedete Allora Siamo in un rabilito No ma innanzitutto Dove va messo Sto esplosivo Io adesso Vicino al teletrasporto Che usano Per mandare le truppe Ok Non ho idea Di dove sia Comunque Io direi Di procedere Con Io che Sto dietro A Zain E Ania Che sta dietro A Yerlet No Che altro La direzione Da Ah ok Allora mi faccio Un tiro di istruzione Per capire bene Come sono organizzato Le navi necron Che mi è concesso 8 Ok Ok Altrimenti Si può fare Sopravvivenza In questi casi Infatti io volevo fare Sopravvivenza Per vedere Se dalle tracce Si riusciva a capire Quali sono Le strade Più utilizzate E quali Probabilmente Magino che ci siano Plotoni e plotoni Che si dirgano Verso i teletrasporti Quindi andrei Andrei sulla strada Più utilizzata Però se basta Quell'8 Non tiro neanche Beh no Tirate per le vostre cose Vi do risultati diversi Vi do informazioni diverse Questa volta tiro con tutti i miei dadi O tiro con Malus No Semplicemente Io tiro con tutto La difficoltà è La difficoltà è alta Allora posso tirare ira volendo Quindi allora Irillet Tu chiedevi per Le tracce Si Per la direzione da seguire Questa cosa è fatta di metallo Quindi Posso tirare Quindi ti avrei dato Mi lasci parlare Quindi la difficoltà che ti avrei dato È 5 Aumentata di 2 7 Ok Posso Posso Sì tirare ira Sì tirare con Divinazione Quindi Proverei Si Perché secondo me Quella cosa della divinazione Conta ancora Perché la tua domanda è Dov'è Il Il Punto Quindi secondo me Vale ancora Ok Ok Ce l'hai fatta Aspetta che ritiro comunque Anche la divinazione Che se faccio Un Cesso Da 2 Forse cambio Invece ho fatto un successo Da 1 Ok Bene Allora Iris Tu non hai Molta esperienza Nelle Strutture Necron Hai subito Un loro assalto Ma eri Sulla tua Nave Da quello che sai Sono Sono Organizzati Sempre in una struttura Gerarchica Noi che lo sappiamo Sono Ispirati all'antico Egitto Quindi di solito C'è sempre Un Overlord Stile faraone Che comanda Tutto Dall'alto Però a parte Sai che vi siete Teletrasportati in teoria Al di sotto Della piramide Quindi dovrebbe Essere Qui da qualche parte E che Per Raggiungere La zona Col Teletrasporto Probabilmente Dovrete Dirigervi Verso O le zone Dove c'è più rumore O dove c'è più luce Purtroppo Non è che hai Una mappa Di questo posto Hai un Auspex Però Si ho un Auspex Non mi ricordo Che cosa faccia L'Auspex Mi pare Mi da una visuale Di 50 metri Intorno a me Esatto I Necron Non hanno Segni vitali Ma penso che Possa anche Rivelare il movimento Se non erro L'Auspex Ma Punti di energia E Movimenti Sì esatto Ok Allora sì Seguendo il tuo Auspex Puoi Potrai Individuare Il teletrasporto O le zone Che ti porteranno Al teletrasporto Ma non A mano Che ti ci avvicini Come una macchetta Dall'appdomante Va bene Quindi è Death Stranding Adesso Irillet Similmente a Iris Questa Questa nave È fatta di metallo Quindi non ci sono Tracce Vere e proprie Tuttavia Come dire Il metallo sul metallo Lascia sulchi Eh ma Loro non usano Scarpe di Il Gomma Mi sembra Molto pesante Come Aveva detto Faustinius La nave è fatta Di Necroderma È un Materiale Un metallo Un metallo Necron Che si autoripara Quindi Ok ok Che città Oh e by the way Sono arrivati I vostri vecchi amici Gli scarabèi A riparare la gamba Che Zain ha distrutto Quando si è teletrasportato E c'è di più senza A parte quello Irillet Comunque Tu Probabilmente Riesci A Seguire le tracce È una cosa Molto Molto Assurda In questo caso Magari Tipo Metto Un orecchio Sul pavimento Per sentire Le vibrazioni Di gente Che cammina Esatto Come col treno Pensavo anch'io Una cosa Più simile a quello Probabilmente Ok Quindi potrei Usare percezione In sostanza Che però È basato Sull'intelletto Quindi immagino Che sia Non ce l'ho Non ce l'ho Molto alto Bene Quindi Vi Dirigete E noi seguiamo Gildet No Seguite Iris Infatti Lei ha uno scanner Va bene Se vi fidate Della mia Schifosissima Curtività Facciamo che Zain Ma ne fada vedono E ma se stanno Anch'io Comunque non mi vedono Ma Non posso stare Dietro di Far finta Di essere parte Del tuo equipaggiamento Ok Zain in questo momento Sta trasportando Più zaini Di quanti tu possa Immaginare A sia Il Il trasmettitore Vox Che l'esplosivo È comunque invisibile Novi granate E una caterla Di armi Addosso Va bene Allora Irilet Puoi stare davanti A me Mi rende La cosa Mi rende Più sicura Se preferisci Va bene Allora iniziamo Ad andare Ah ok Allora La spada È Zain Io vado davanti Va bene Allora iniziamo Andando A sinistra Ok Bene Proseguite un po' Irileth Il tuo istinto Di sopravvivenza Sente All'avvicinarsi Di una minaccia Ok Però questo è un problema Perché Iris e Ania Sono belle visibili Ci sono ancora Le statue Comunque Le? Le statue Ah Dove nascono Io no Spero che non si rianimo Riani Nino Dico a Iris Se Ania Nascondiamoci Il territorio è stato E sta arrivando qualcuno Va bene Non so Quanto sono le statue Non riusciamo a nasconderci sotto Al basamento Anche dietro Mi sembrano belle alte Visto quanto è alto Questo tizio Sì Sì Beh Non sono così Però sì Più o meno Vi potete nascondere dietro Al basamento Questo è un È un tecnoprete Sembra Visto All'ascia dell'Omnesia Ok Vedete passare Un guerriero Necron Aspetto che si allontani Abbastanza E poi faccio segnale Per ripartire Siete fortunati Che la La sua percezione Passiva È 1 Quindi Anche Iris Che ha fatto 2 Invisibili A sto tizio Ok Fintanto che Rimanete in silenzio Ma quando si è scordito Ha degli oggetti Non mica c'è un bonus E Se dovessi Applicare tutte le regole Che ci sono In questo manuale Staremmo qui Un'ora Per ogni tiro A posto così Comunque 2 Maggiore di 1 Quindi siamo a posto Esatto Seguiamo dove è andato Iris Tipo Solo per il fatto Solo per il fatto Che vi mettete a parlare Tra di voi Dovrei ridurvi Le riserve furtive Pensa Ok Allora Continuiamo ad andare A sinistra Seguiamo Seguiamo Quelli Necron Però A distanza Molta 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 A distanza Tranquilla Quel Necron È abbastanza Accecato Quanto pare Ok Andiamo Andiamo nella tua direzione Cioè Non è che seguiamo Lui di per sé Avrei dovuto specificare Che si muoveva in direzione opposta Rispetto a dove Stavate andando a voi Ah ok Infatti io dicevo Andiamo da dove è venuto Ok Infatti Sì Va bene Andiamo da dove è venuto E pensavo stessimo andando In una testa direzione Sì Mi sono reso conto Che avrei dovuto specificarlo Zane inizia a preoccuparsi Delle indicazioni Che erano da Iris Tranquillo Tranquillo Stiamo andando Stiamo andando Io ho fatto 10 sopravvivenza Cosa? Zane? No no Ovviamente Perché ho 10 sopravvivenza È una cosa così Ok Ok Quindi Proseguite Andate nella direzione Da cui Quello era Arrivato E Arrivate in Un'altra Zona Della nave Aspetta Meglio Che Prendo subito I vostri token Grazie per essere Messi in più lontano Possibili Gli uni dagli altri Ania è finita fuori Dall'immagine Questa è una Paprica Tipo Con un enorme portale Da dove Laospex Di Iris Rileva Una potente Fonte di energia Ok Ragazzi Credo che Quello Mandi I soldati Su Avacruz Credo Questa è un portale Quindi non è una porta No è una porta Ah ok Ci sarà dietro la porta Allora il portale Probabilmente Ma La strada Che si trova davanti a noi È simile a questa Cioè È proprio un rettilineo Senza nessun posto Dove nascondersi Esatto È proprio quella Di tutti questi Necron appesi Si attiveranno Ah c'è ancora Torretta Che bello Noi l'abbiamo vista La torretta Due torretta È lì sulla porta Mi sa se la torretta Vede me Zane Ho un Sifutita No Eh infatti Sono curioso di sapere Quanta è la percezione Passiva di quelle torrette Io comincerei Andare avanti Con Zane Casomai che vediamo Cosa c'è dietro Quella porta Poi in caso Facciamo un segnale Va bene Le torrette spareranno Forse dobbiamo Sparare le torrette Prima che ci vediamo No perché così Con l'ambiente No perché se Già dietro c'è il portale Piazziamo la bomba Ce ne andiamo Se il portale è già lì Se sparate Le avvertite Io mi confondo Con l'ambiente Salgo su Vado giù Sono indietro Vado di nuovo avanti Ben cammino Ok Vi avvicinate lentamente Le torrette non sembrano Reagire alla vostra presenza Ok Vorrei fare un test In percezione Per vedere se ci sono Delle trappole Che attiverebbero le torrette Ok E lo faccio usando La vista Perché ho una bionica Che mi dà Un miglioramento La vista Ah Ok Quindi La difficoltà Sarebbe 3 aumentata Di 2 Per I poteripsioni Ci sosteniamo Potrei Potrei tirare Iro Vuoi che tiro io Percezione Che ho 7 Se riesci a vedere tu qualcosa Perché non vedo niente Eh A posto Ciao Ma risolta Ho visto qualcosa Ah Hai tirato anche te Yes Per Le trappole Dici Le yes Giusto Qualcosa che potrebbe Attivare quelle torrette Un sensore Un Un Trappola Una telecamera Siamo abbastanza sicuri Di essere invisibili Sul portale Ci sono dei sensori Di movimento Ah Se marcate Quel portale Sarete Rilevati Indipendentemente Dai vostri Dalla vostra Furtività Però Intuisci anche Che è grazie Alla vostra Furtività Che queste torrette In questo momento Non vi stiano Già sparando Quindi sono due sistemi Relativamente Sconnesse Possiamo vedere Comunque Cosa c'è Al di là Di quella porta Senza entrare Certo Quello che vedete È un Enorme Ambiente Simile A una gigantesca Grotta E Che per qualche motivo Vi ricorda anche Il teleportarium Da cui siete passati Anche voi Solo che Anziché esserci Una pedana C'è Praticamente Uno stargate Al centro Della stanza E Attraverso di esso Vedete Passare Ah è vero Sono in veicoli Perché non ho Ovviamente Dei necron Come Non esiste Non c'è ancora Il bestiario Quindi ancora Non ho I necron Se non quello Che ho creato Io Da zero Quindi Quello che vedete Sono In realtà Poteva stare Anche soltanto Queste immagini Che ha Tutti Questi elementi Assieme In pratica Vedete Tanta roba Molto brutta Molto Molto Vari Di questi Veicoli Attraversare Il portale In file Ordinata In pratica Possiamo Piazzare La bomba Allora Questa In particolare È Una È Sostanzialmente Un'arma Gigantesca È un veicolo Che però Incorpora Un enorme Cannone Nel suo Scafo E praticamente Serve solo A spostarlo In giro Un'arma Da sedio Gigante Si potrebbe Dire Se piazzassimo Qua la bomba Sarebbe Abbastanza Potente Da Distruggere Anche Il Qua dove Sulla Porta Si All'ingresso Della Porta No No L'ambiente Oltre La Porta È Gigantesco Per Intenderci Voi In questo Siete Grandi Così Ok Io Avrei Un piano Possiamo Staccare Questi Necron Dal Muro Sono Inanimati Credo Morti Abbia Pezzi Vestirci Da Necron I Necron Non Sono Una Corazza Però Sono Pieni All'interno Svuotiamo Credo Che sia Tecno Eresia Capitano Però Tu Zitta Tu Zitta Non Potrebbe Diamo Per scontato Quelli Che siete Tornati Indietro A riferire Sì Ragazzi Voi Non potete Distruggere Andate Lì Le torrette Non vi Beccano Distruggete Le torrette Io Vado Vicino Alla Porta E Disattivo I Sensori Posso Farlo Sì Ma se Poi L'ambiente È Molto Grande Come Facciamo Ad Arrivare Fin Là Ci Sono I Veicoli Non È Necessario Che Ci Arriviamo Tutti Basta Che Arriviamo Io E Zain Arriviamo Lì Piazzare La Bomba Ce ne Andiamo Ricordiamo Per Vedete Le pareti Illuminarsi Di una Luce Verde E I Vari Corpi Necron Che Sono Appesi Alle Pareti Riattivarsi What Fuck Posso Fare Un test Immediato Per No Intuizione Sulla Socialità Penso Che Sia Tecnologia O Intelletto Puro Che Per Te Immagino Siano La Stessa Cosa Penso Che Andrò Con Intelletto Puro Perché Non 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 So Come Potre Usarla Due Che Tra l'altro È C'ero Lo Faccio Io Stanno Arrivando Loro Aspettate Un attimo Tio Di Tecnologia Per Capire Che È Successo 9 È Stato Illick No Tu Non Hai Visto Oltre Al Portale Però C'erano Altri Portali Oltre A Questo In Pratica Questa Zona Dove Le Truppe Sono In Attesa Prima Di Attraversare Il Portale E Andare Verso Il Teletrasporto Ah Quindi Non Hanno Visto No Si Stanno Solo Preparando Avevano Potuto Fare Questo Tio Prima Sì Già Sarebbe Stato Utile Già Quindi Loro Non Ci hanno Ancora Visto È Impossibile Non Vedervi Siete In Mezzo Alla Stanza Allora Impossibile Non È Vero Perché Io Sto Distorcendo Il Colore Dittorno A me Io Con La Pinza Mi Sto Tenendo Al Limite Del Confine Tipo Assassin's Creed Perché L'effetto Dice Proprio L'opzionico Piega La Realtà Appena Tanto Quel Appena Quel Tanto Che Basta Da Confondere La Propra Immagine Con L'ambiente Continua A Menta E Si Attivano D'entrambe Le Pareti Dove Parca Puttana Facciamo Il momento In cui Ci sarà La Mano Quindi Proviamo Allora Avete Devo fare Comunque La mia Prova Per Vedere Se Effettivamente Vi Notano Siete In mezzo Alla Stanza Ma Avete La Vostra Riserva Furtiva Di Sicuro Vedranno Iris Probabilmente Allora Non avevano Uno in percezione Passiva In percezione Passiva Hanno Uno In percezione Attiva Hanno Due Più Uno Per ogni Necron Nell'unità Ho tolto Il primo Quindi Tiro Undici Dadi Per la Prima Unità Che Fa Quattro Con Una Complicazione Undici Per la Seconda Unità Che Fa Otto Con Critico E mi Da un Punto Rovere Dovina Chi Non Vedono Zain La Seconda Unità Mi Vede Anche A me Spendo Un punto Rovina Per tirare I dadi Della Prima Unità Che Sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ah Già Quello Non conta Come Perché avevo Già Fatto Il Punto Critico Ho fatto La Stessa Cosa Quindi Ho fatto Sette Otto Per Questi Tizi Dovevo Sette Ok Quindi Vedono Tutti Tranne Zain Che al Momento Si Nasconde Ancora Nelle Tenebre In qualche Modo Dove La sua Armatura Bianca Siete Praticamente Circondati Però Se Vi ho messi Contro Due Unità Facendo Palesemente Metagame Probabilmente Non sono Così Difficili O Terrificanti Quanto Potrebbero Semrare Per personaggi Al grado Fatto A parte Questo Zain Tu Volendo Hai L'attacco A sorpresa Sì Tra l'altro Potrei Usare Anche Non so Se Va Terrore Contro Sti Tizi No Loro Causano Causano Paura Se non Erro Quindi Sono Cosa Causano È immune Le condizioni Avvenenato Esatto Sto furioso Paura Sanguinante Terrore Ok Sì Aspettato Fatemi tutti Una prova Di paura Per via Di questa Riattivazione Contro i Necron Paura Risolutezza Giusto Sì Risolutezza Facciamo Difficoltà 4 5 Per Iris E Irillet Ma che Cazzo 5 Non ho sentito Paura Risolutezza Io Non conosceranno La paura Ma evidentemente Zain Sì In caso Iris Forse puoi tirare Con Gloria Che ne abbiamo Due Anche Anche Va bene Ti ho i due Gloria Che di merda Gazz Ti ho i due Gloria E incrociamo Le dita Ti prego Ti prego Ti prego No Madonna Ma che Sì Giorgi Quindi Zain È immobilizzato Si ripete Un'altra volta La situazione In cui Io Se l'unico Che non si è Spaventato Zain È immobilizzato Però È fermo Invisibile Iris E Ania Cercano anche Loro Di rimanere Fermi Immobili Però Le vienono Perfettamente Irillet Tu non sei colto Dalla paura E quindi Mi tocca agire Per primo Penso Non è detto In realtà Vediamo un po' Cosa dice Esattamente Non mi ricordo Se l'altra Era terrore O era paura Anche quell'altro Quell'altro Diceva che tipo Scappavano Sì Quello era terrore Ok Ok Il personaggio Fa una prova Di risolutezza Con la cd Dal suo oggetto Un fallimento Impone più due Alla cd A tutte le prove Ok Quindi Nessuno di voi Ha problemi A Attaccare Questi tizi Ma avete più due Alla cd Di tutte le prove Perché siete stati Spaventati Da questo risveglio Improvviso Dei Necron Tuttavia La cosa del cd Aumentata alle prove È un dito in un culo Ogni volta Può essere Questa cosa Persiste fino Al fine della scena Quindi di questo combattimento O finché un alleato Non sopra una prova Di comando Con cd Pari a due Più il valore Della paura Quindi bisogna fare sei Pratico La prova di comando Ania quanto ha di comando? Eh no Devo farla io Non so Però no Ok Tu quanto hai Io ho 8 Vabbè dai Sì ma dovrei disattivare I miei poteri psionici Per farla In maniera Soddisfacente Alprimente il target È 8 Ah che bello Sì disattiva Le che ti servono Vi danno Poi lo sancca voi Quindi In realtà Positiva che io Sono bloccato Ma comunque Sono indesibili No non sei bloccato Hai soltanto più Vue la td Per colpire Lo so Ma a livello di racconto È più bello Di risultato Quindi A meno che non vogliate Cambiare L'ordine Noi abbiamo Stavolito la scorsa volta Che da adesso in poi L'ordine di iniziativa Facciamo con L'ordine di iniziativa Quindi in base a chi Ha la i più alta No Quindi chi ha la i più alta Che serve Ah ok Io sono sempre ultimo Allora va bene A meno che non vogliate Far andare i rillet Per cercare di eliminare La paura Però Allora io in caso Posso andare Ma sì Fai per prima così Provi a eliminare La paura Non è così facile Ragazzi Dai 8 dadi Meno il malus Ma comunque L'uomo con 5 punti La sessione Da spendere Io ci provo anche Ragazzi Va bene Ma sì Cosa succede Allora io disattivo Tutti i miei poteri psionici Ah davvero Eh sì Sennò non ci arrivo 8 Dovrei fare 8 Come target Eh ma appunto puoi ritirare Con i punti ira Eh abbiamo visto prima Non ne sono andati Non stanno andando così bene I tiri Ok Non me la voglio rischiare D'accordo Quindi disattivo i due poteri E Tiro con tutto quello che ho Beh intanto Gioia però eh Gioia Ok dai Abbiamo un gloria E Che merda che abbiamo fatto Cioè guardate gli attimi tiri Olè No E puoi anche scambiare Per un altro punto gloria Cambio per un altro punto gloria Bene Irillet Penso che Il tuo comando è E dai ragazzi Non di nuovo Perché come dicevi È una cosa che era già successa Eh No Potrei utilizzare La spama Nella mia propria Specie E quindi dirgli tipo Ah io non ho paura Di questi cosi Si vede proprio Che le scimmie Non sono all'altezza Di noi Eldari Quindi voglio farli Voglio suscitare Lo spirito competitivo D'accordo Prenditi Punto Ira Mi piace come cosa E Alla fine Posso spronarli In entrambi i modi Non ne vuole per forza Incoraggiarli E Irillet Vi ha sbloccati Dalla paura Sì Domanda per il master Un'azione semplice È anche un'azione Di combattimento O è soltanto È una cosa marginale È un'altra cosa È come in D&D C'è l'azione E l'azione bonus Le azioni gratuite E il movimento Qui abbiamo E l'azione reattiva Qui abbiamo L'azione di combattimento L'azione semplice Le azioni gratuite Il movimento E l'azione riflessiva Anomi diverse Ma sono la stessa cosa È praticamente un'azione Che però è talmente semplice Che non richiede L'utilizzo Di un'azione di combattimento Tipo Spoderare un'arma E cose del genere Ok Io come azione semplice Ho signori del culto Della macchina Quindi Puoi aiutare Tutti gli alleati Entro 10 metri Che hanno Adeptus Keyword Che come keyword Hanno Adeptus Mechanicus O armi abbastanza avanzate Da avere uno spirito macchina Quindi tutti Tranne Esatto Quindi Inclusive armi da fuoco E le armi da mischia Non basilari Concedendo loro Più 3 rango Dadi bonus Alle prove Quindi Alle prove Quando usate quelle armi Quindi avete Più 3 dadi Quando usate le armi Yes Se siete in 10 metri da me Per colpire Tu dici Per Sì Per gli attacchi Ma solo da fuoco Tutte le armi Con uno spirito macchina E voi avete armi potenziate Quindi contano La spada Ok Yes Ania tra tutte La tua sicuramente Ha uno spirito macchina Perché l'hai Modificata così tanto Che adesso Non è più una normale spada Di sicuro Pensavo ci fossero Bisogni di meccanismi Per avere uno spirito macchina Però No Semplicemente Più l'arma è semplice Più lo spirito macchina È semplice A sua volta Più l'arma è complessa E che Titano Nave del vuoto E cose del genere Più lo spirito macchina È più simile All'intelligenza artificiale A vere prove Però no È così Infatti nel videogioco Mechanicus Da cui questi sfondi Per la nave Necron Sono presi Tutte le armi Hanno lo spirito macchina Che si carica In base a quanti attacchi fai E quando è attivo Hanno un bonus Di qualche tipo Tipo Più danno Costa di meno Utilizzare le armi L'area D'azione aumenta E cose del genere Tutte le armi Non Spada semplice Coltello Da cucina Hanno uno spirito macchina In pratica Comunque stavo raggiando Su una cosa Se Una volta che attacchiamo Quest Cioè Il problema è che ci sono anche Queste due Che ci sparano da dietro No Quelle siete abbastanza Fuori dal raggio d'azione Siete stati bravi a evitarle Quindi non si aggiungono Al combattimento Allora Io ho fatto una complicazione Prima La complicazione È che faccio che Uno dei due gruppi È più lento Ad agire rispetto all'altro Quindi se volete Può andare subito Un altro di voi Vai Ania Secondo me Ania Vado io E incasto velocità Quindi Cosa Go fast Tirate due Ho tirato un dado in più A Fa niente Sicura che hai un dado in più Hai dodici dadi Non ne avevi Avrei tredici Allora hai tirato giusto Tredici giusto Boh Ho pensato di mi cliccare Bene Quindi mi si attiva velocità E Vado col primo attacco Velocità Quanto lo richiede Per l'attivazione Perfetto Quindi volendo Puoi scambiare Per un punto gloria Ah sì Punto gloria O per qualcos'altro Potrei scambiare Per un in più di difesa Mi pare Mi pare che Poi lo richieda Due scambi Però No Aspetta Se Difesa Due scambi Allora Sì Più malodifeso Sono due scambi Ah no Allora Ok Allora Scambio per lo shock in meno Esatto Uno per lo shock in meno Quindi Attacco Abbiamo detto Due dadi bonus Per attaccare Tre È più rango Dadi bonus Più Il rango Il rango di iris Si intende ovviamente Quindi Avete Il dadi bonus All'attacco Ok Nove successi Nove successi La difesa dei necron Semplice è infima È uno Quindi Mi hai colpiti Nove su dieci Tira i danni I danni È pochissimo In realtà Visto Faccio dove c'è di base Ok Tutte Ok Tiro Grinta Porca troia È vero Bene Assorbo Tutti i danni Che hai fatto Quindi Che erano Quattro Ah VP meno tre Però Vabbè Quindi erano Sette danni Gli ho assorbiti tutti Ben Andata male Spieghiamo Che Necron Sparino Hai Riletto Cosa stavo Facendo Ah Sì Devo Togliermi Un punto Rovina Perché Gli ho Fatto Tire Regretta E Non sono Più Avversari Sono Top Ok Tocca A Me Quindi Beh visto che hai appena fatto te Io direi che ti faccio attaccare in corpo a corpo Se non ti dispiace Quindi la loro mischia è 5 più 9 dadi 14 dadi per colpirti Oh wow 6 Non mi prendono Non mi dispiace Vedi che cercano di colpirti Muovendo I loro fucili Come Ash Perché hanno una lama Come puoi notare Sulla Sulla punta dell'arma Ma Riesci a perriare E schivare i colpi Con Grande abilità E perché Hai Una Una combo di talenti E di arma Che è rotta Per il corpo a corpo Bene Tocca a Iris O Iril No O Zain Zain No vai Iris Rieccomi Ho visto Penalti tirare un 10 Per attaccare qualcuno Ti sto attaccando Ah mia Ma Ho già No Il 10 Era per Assorbire danni Con la grinta E li ho assorbiti tutti Perché ho fatto 10 E sti stronzi Avranno grinta infinita Ovvio Sono nego Però devo spendere Un punto rovina Per fargliela usare La grinta Perché sono truppe Ma anche noi Prima o poi Potremmo giocare personaggi Con grinta infinita Non ci sono personaggi Con grinta infinita Ah Va bene C'è con il shock infinito E tu sei la cosa più vicina Allo shock infinito Hai più shock Che ferite massi Ok Io sparo Allora Allora 11 dadi Più Quali altre azioni C'erano Per sparare Con cosa E contro chi Giusto disradicamento Contro Chi è che aveva attaccato Contro loro Ok Hai due occhi bionici Che ti danno Due dadi bonus Alla Più Sì Sono 11 dadi Per colpire Aspetta un attimo Raffica No Sto sparando Contro Contro Un'unità Quindi posso usare La raffica Sì Una cosa Però Ti conviene fare Il multiattacco Perché tu ce l'hai Gratuito Ho riletto le regole Devi farlo Con la stessa arma Quindi tu In pratica Puoi sparare Due volte Con il tuo Con il tuo raggio A gratis Va bene Quindi puoi sparare Due colpi Come se fosse Senza malus Contro Questa Unità Va bene Allora Azione di mira Quindi guadagno Un dado Sono 12 dadi Per colpire Prima unità Vai 8 Cazzo La loro difesa È 1 Quindi Ne hai colpiti 8 Ed è letteralmente Il numero Ok Tira per colpire Di nuovo Vai 12 8 Ancora Ok Quindi Quindi in pratica Ce ne sono Sono 10 In totale Quindi Significa Che ce ne sono Due Che non Vengono Colpiti Due Volte Tutti Gli altri No Prove Che funziona No Facciamo Che 8 Di questi Li colpisco Due Volte E 2 Li lascio Integri Ah Ok Va bene Più facile Ok Tira Il danno Ok Il danno Aspetta Andate Un pesaglio 13 De 1 VP Menno 2 Non funziona Così però Perché non puoi Attaccare Due volte La stessa Persona Nello Stesso Coso Vabbè In pratica Li hai colpiti Tutti Significa Tira I danni Va bene 13 2 Die 13 Ok Tira ancora Il danno Che senso No no Devi tirarlo Una sola volta Ah ok Una sola volta Per tutti Il multiattacco Va bene Ok Nicola parla Che c'è il fruscio Parlo Grazie Ok Non voglio dispendere Un altro punto rovina Per loro Quindi I tuoi colpi Di Raggio Di sradicamento Riescono effettivamente A danneggiare Terribilmente Questi necron Che vedete Smaterializzarsi Di fronte ai vostri occhi Non è chiaro Se per via del raggio O di qualche Loro Sistema di sicurezza Ok Fantastic Non so Quale delle due Mi spaventerebbe Di più Corruzione Bene Tocca a me Adesso Loro Apriano il fuoco Su di voi E Quelli che Non sono Stati ancora Colpiti Quindi Iris E Irillet 5 Per ciascuno Eh io Non ho più Bonus Di difesa Quindi Contro Irillet 7 Sette Un preso Di sicuro E contro Iris 5 Critico Cazzo Io ho 3 4 In combattimento Niente Mi hanno colpito Se vi ricordate Le unità Non possono Criptare Quindi Ah ok Quindi tu hai un Punto a via in più Eh sì Quanto meno Ah finalmente Delle truppe Che si fanno valere Un po' Comunque Certo Ne hai appena Vaporizzati I 10 E questo Scomparirà Appena Zen Arriva in corpo A corpo Però almeno Riescono a fare Qualcosa Quindi Qua Danno Sui Irillet Allora La vp Del gauss Blaster È Meno 2 Anzi Tira Ma contro di voi Non conta niente Perché avete il campo Di forza Cosa Scusa La complicazione Ah La complicazione È Che Al prossimo turno Loro saranno morti Serve davvero Fare una complicazione Ah ok Come l'ho detto Siamo sinceri Dai Ok Devo tirare Il danno È cadenza Rapida Quindi ho Due danni Di aggiuntivi Però Ti attacco Quindi È due Di meno Non Non per le unità Ok 14 danni Su Irillet Ok Posso Assorbirli Sì E 17 Su Iris Che sfiga Cazzo Quindi sono Sette Hanno la vp Per caso Sì ma Tanto la tua Armatura Il tuo campo di forza Annulla Quel problema Va bene Va bene Quindi sono Sette danni Da assorbire Puttana Io di grinta I raggi Dei Dei blaster Gauss Dei necron Vi colpiscono Cercando Di smaterializzarvi I vostri campi di forza Vi proteggono A sufficienza Ma Qualcosa Viene perso Comunque Va bene Sono 3 frite 4 shock Irilet Io ho soltanto 3 shock Ho assorbito Tutto Oh perché Hai esattamente 11 di resilienza È vero Sì Come in Ecron Com'è possibile Questa cosa L'Eldari Più grasso Della galassia Ok Più simpatico Tocca Zane Qualunque cosa Che io possa fare Conservando La mia riserva furtiva In realtà Se attacchi La tua riserva furtiva La mando Automaticamente A zero In questo caso E in ogni caso Dovete ritirarla Dopo Dopo il combattimento E comunque Forse Non ti servirà Perché dovrà Buttare giù Le torrette Ok Allora Inzitutto Vabbè Esco Dallo Stent Quindi attacco A sua presa Posso fare Anche un multiattacco Sì Ok Quindi più due Cd per l'attacco Contra il primo Quindi buono Attacco Quattro Non penso che ti serva Perché hai il bonus Da Iris Per colpire La loro difesa È uno Quindi in pratica Se fai dieci Ed è probabile Li colpirai tutti Ok Quindi Ok Quindi ho tre di bonus Da Iris Giusto? Sì Tre di bonus Per colpire Più due Per l'attacco Due miei Esatto Quindi Quanto abbiamo di Gloria? Due Tre Sono spavate Di usare entrambi Nessuno? Ditemi voi Effettivamente Conveniva fare il multiattacco In questo caso Perché Avevo la vita Ma secondo me Non è neanche necessario Perché poi ci viene Il turno dopo Ci sarà È vero Ne lasci in vita Soltanto uno Ok Dove Stiro il danno Il danno Ottieni anche Più due di aggiunti Due di Ho visto Per La fortuna È brutale Ma che Paolo Sbagliato Quando vuoi Ti sei trattenuto Abbastanza Vero Sì Però Più a meno tre Sì Beh Non fa differenza Sono stati ambientati Sono tutti Esatto Ok Ne rimane Uno solo Quindi E adesso Ricomincia In giro Quindi Zane Puoi finire Il lavoro Eh Nicola Ti parli In realtà Sì Ok Quindi Uh Gloria Ah Tirami il D66 Per Flavor Ecco Devo tirare il danno No Non mi serve Tirare il danno Tra me Puoi evitare Allora L'altro 22 Lacerazione Brutale Carne strappata Lossa rotte Organi perforati Fanno una spara Il bersaglio Per il dolore Non penso Che sia Applieti Però In sostanza Lo fai a pezzi Questo di sicuro Non scompare Proprio Riesci Effettivamente Ad afferrarlo E a farlo A pezzi Lol Yeee Bene E adesso Ok Prova di tecnologia Su quelle torrette Per capire Come funziona Prima dobbiamo Arrivarci Alle torrette Se ci avviciniamo Ci sparano Si Prova di tecnologia Per capire Come funzionano Le torrette Sette C'è qualcosa Allora Quelle torrette Sono Fammi leggere I miei appunti Particle Shredder Ovvero Distruttori Di particelle Disgregatori Di particelle Non so esattamente Quale sia la traduzione Italiana Ti leggo direttamente La descrizione Sono dieci pagine indietro Ecco perché Un testamento Alla padronanza Della scienza Da parte di Necron I disgregatori Di particelle Sparano Una Sottile Un sottile Flusso Di antimateria Al suo Versaglio Questi flussi Di comunicare Di comunicare Con i costrutti Sì Corretto Sono torrette Secondo me Contano come costrutti Ovviamente Con il più due Alla cd Dovuto al fatto Che sono tecnologia Xeno Va bene Devo interagire con Entrambe Separatamente Sì Ok Vai con la prima A sinistra Otto Ok Nicola Sì Sì Direi che la difficoltà Era 5 Più 2 7 Per quendesse Vedete la prima torretta Che si disattiva Si disattiva Non la posso controllare No Direi Che è meglio di no Ah Volevo fargli sparare All'altra torretta Lo so Però Mi sembra un po' Esagerato Altrimenti Ti avrei alzato La difficoltà Più di cos'è Va bene Tira ancora Dovevamo stabilirlo Prima del tiro Non stabiliamo mai Che cosa stiamo Facendo prima del tiro Ah ma non ho Non ho Non ho usato Il più rango Dadi bonus Per controllarli Cazzo Beh Ah Non erano 13 dadi Erano più 2 per rango Dadi bonus Erano 19 19 dadi Ok Va bene Adesso tiriamo i 19 dadi Ok Quindi se vuoi puoi anche provare a Le disattivo e basta Facciamo così Bene Le due torrette sono disattivate Potete approcciare la porta Senza troppi problemi adesso Porta Porta Che bello Riesce a disattivare anche il sensore di movimento? Adesso ci provo È un costrutto meccanico? No no Questa è tecnologia di sicurezza all'interno della porta Non c'entra con i costrutti Ok Quindi dovrei tipo Andare sul pannello di controllo della porta Se ce n'è uno Eh Tipo È più strappare un pannello dal pavimento Cosa del genere Forse No Aspetta Fammi ci pensare No Hanno effettivamente un computer di controllo Facendo Facendomi venire in mente la mia conoscenza di meccanicos Ci sono dei simili computer in giro Ok Tu è Angry Corner Se parli con uno spirito macchina Come parte Ti fai Dimmi che c'era uno spirito macchina Non c'era uno spirito macchina Nei Necron È unico della tecnologia imperiale Lo spirito macchina Riparare Macchinari Svolto in metà tempo Tenere acciaio No Sono quasi inutile Ok Disattiviamo il pannello Ok Stabiliamo la difficoltà prima di farlo Sempre set direi Come per le torrette Compreso l'aumento dei cibi Dipende 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 Sì Uff È critico Iris Con grande abilità Inizia a padroneggiare Anche il manipolare Questa tecnologia Xeno Dalla distanza Si è interfacciata E ha disattivato Le due torrette All'antimateria Che le minacciavano Dopodiché Mettendo mano Al console Di sicurezza Si direbbe È anche riuscita A spegnere Le altre difese Di questa porta E adesso potete Accedere tranquillamente Alla Allo stanzone Successivo Sono basati Solo 19 dadi Io ti darei Anche un Punto Ira Per questa azione Va bene Grazie Lo considero Anche Completamento Del tuo obiettivo Direi Va bene Va benissimo E potete Proseguire All'interno Nella grande Sala successiva Aspetta È necessario Che entriamo tutti Perché era pieno Di necro Esatto Quindi Potete farlo Adesso mi dite Come intendete Procedere E magari Il rilet Vuole levare il culo Della faccia di zain Scusami No Mi siedo sopra Mi siedo sopra Del vetto Zain Tu che No Mi sono spostato il tempo Più che sei molto stealth Te la sentiresti Entrare Piazzare la bomba E uscire Anche tu sei molto stealth Di insieme Sì ma a quanto pare Non sono più stealth Come te Sono stato pesantemente Nervato Io immagino Io immagino Zain Che tipo Ti voglio portare Con me In questa zona Incredibilmente Pericolosa Dove se morirai Posso dire Che sei stato Attaccato dai nemici Non riferisco Restare da questa parte Della stanza In cui ci sono Testimoni oculari Esatto No Sono certo Che avrò bisogno Di aiuto Nel piazzarlo Beh Ma Bisogna fare qualcosa Di particolare Con la bomba Possiamo semplicemente Portarla Dove c'è il portale Piazzarla Allora la buona notizia È che se Iris E Anya rimangono qui Iris può tramite L'auricolare di Anya Dare le informazioni Tecnologiche Che servono a Zain Come azione di aiuto Quindi rimanete in contatto Nonostante tutto Quindi non c'è bisogno Che avviate effettivamente Tutti Visto che siete in grado Di comunicare a distanza Yes Indomina chi non è in grado Di comunicare a distanza Tu Quindi tu vieni con me Se vuoi vengo anche Secondo me Vengo un pochettino La cosa Però proviamoci Io sono appostata Allora Io tirerei Prima con Camaleonte Per proteggere Te stesso E tanto Zain C'ha l'invisibilità Della madonna Sì beh Ho bisogno di nascondermi Non ci saranno coperture Una volta attraversata Quella stanza Quindi non avrà Il suo Più 3 normale Ah Io però posso Crear le coperture Utilizzando Occultare Quello che dice Occultare è L'opzionico Richiama le ombre E le indossa Come un mantello Per nascondersi Finché mantiene il potere Lui ha Entro 5 metri Tengono più Uno difese E un dato bonus Alle prove di furtività E non fa esattamente Quello Non gli dà copertura È come il mantello Di Camagliolina In pratica Ok Vai Allora Ritiriamo già l'uno Era il tempo Dei ritiri No Finalmente Cazzo Doveva succedere Prima o poi Doveva succedere Zane è sempre invisibile Aspetta Aspetta Cosa succede adesso? Allora Se vuoi puoi ritirare Il resto con ira E non avere La Furtilità Non posso più Utilizzare divinazione Immagino No Ok Perché c'è stato Un intero combattimento Di mezzo Però Tirami Il tirami Il D66 E vediamo cosa esce Tanto hai già fatto Per tutte le volte Che hai esatto L'adivinazione Con questa cosa Quindi non è troppo Un problema Sì ma il fatto è che Se quello che succede È Parte un allarme generale Che fa arrivare Un enorme esercito Di nemici Addosso a noi È un po' problematico Non è troppo Il mio ritiro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 31 Coro sinistro Ok wow Un sinistro Coro divisate Richeggia nell'aria Tutte le creature senzienti Entro 25 metri dall'opzionico Devono sferare Una prova di volontà Cd3 O essere ostacolate Uno per un round Il GM riceve Uno rovina Quindi tutti Fatemi una prova di volontà Zain ricordati Che tu alle prove di volontà Hai un bonus Pari al numero di bioniche Che hai Incredibile che Sta cosa sia successa Soltanto una volta In tutta la campagna Se non sbaglio È la prima volta Che succede A coppato 1 Che fai doppio 1 Sì Soltanto con Le tue promunizioni Quattro È abbastanza Sì sì Oh mio dio Ho anche un dado in più Perché sono un Iron Hands Giusto? Più di un dado È uno per ogni bionica che hai Ah vero? Sì giusto Tu hai 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 Ti Hai tipo le viscere E poi hai briso anche Viscere, braccio Ammatura sul dermale Ok quindi hai Tre dadi aggiuntivi A questa prova Una volta Cinque Otto È un critico Eh che cazzo però Zaini smettila di essere così incredibile Ma che cosa che avevo paurissima Quanto stiamo Gloria? Tre Quattro Allora Se ho un attimo di tempo Per fare un salto indietro Per fare i calcoli appenati Io ho fatto tredici Questo significa che posso cambiare tutti e quattro i dadi Per ottenere più quattro dadi furtività Oltre ai cinque che ti dà di base Esatto E poi Scusa Zaini quanto cazzo ha fatto sul suo tiro di furtività? Otto Ah ok Zaini non avrà alcun problema come al solito Eh però adesso volevo tirargli l'altro potere Sionico Ah e non serve Ha già fatto Ha già fatto il tiro per conto suo Quindi non serve che lo tiri Ok Se lo vuoi lo puoi tirare solo per te stesso Aspetta sto pensando se ne vale la pena a questo punto Beh i malus non cambiano per te Ah è vero Forse loro ne vale la pena Però fammi la prova di volontà Per vedere se sei ostacolato Ah scusami Era target? Tre Molto facile Madonna L'ho passata per un pedo Ok 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 Quindi la provo a fare comunque allora quel tiro Madonna 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 Gloria Gloria Allora Adesso aspetta un attimo Perché in questo tiro qua è Tredici Meno sei Sarebbe sette Meno due Sarebbe cinque Quindi posso scambiare tre Ok Ok Posso scambiare tre Quindi prendo altri due dati di furtività e due di difesa Eeeh Quindi adesso Il rilet è pronto a scomparire Deve soltanto fare una prova di furtività Adesso tiro su con quattro Più due Più cinque Più quattro Tiro con quindici dati di furtività Ok Ok Allora facciamo come dice il manuale La difficoltà per arrivare lì senza essere notati da tutti i Necron Io la metterei proprio a otto Onestamente Quindi quello che ha fatto Zane era il necessario E quindi per i rilet sarebbe dieci Ok Posso arrivarti Ho fatto undici Perfetto Noia Oddio Ma porca puttana Che palle Ok Avete cinque Non ti vai Vania stava scrivendo qualcosa di lunghissimo Prima non ho visto E di tool LOL Nicole è andato un attimo in crisi Ma guarda che nella vita poi riassume tutto come un LOL Ottimo Quindi io e Zane siamo invisibili Ottimo E basta che non si sia mutato per sbaglio Come altre volte No non mi sembra mutato Forse si è rotto il microfono Nicola se si è rotto il microfono Inviami a casa una torta al cioccolato O una pizza Mi è arrivata una pizza Scrivi in chat pizza se si è rotto il tuo microfono Oppure Ah Scrivi In chat Cocomero Se invece non vuoi parlare in generale perché ti sto sul cazzo Puoi non parlare Bene Quindi Zane e Irilet Passano In mezzo Alle varie truppe dei Necron Cercando di essere il più inosservati possibile Purtroppo non ho un'immagine per lo stanzone principale Quindi Ho i miei limiti Purtroppo Appunto vedete schiere di Necron che si muovono Passate sotto Le zampe di questo veicolo Sì Che Evidenziamolo È un veicolo Perché anche se sembra un insetto C'è un Necron a pilotarlo Da sopra Con le loro armi pesanti Sgusciate Tra Le ombre Fino Ricordiamoci Zane In armatura totalmente bianca Mentre il colore principale dei Necron È nero e verde Con un enorme zane Due zane enorme Sì Tre se contiamo anche il power pack dell'armatura Le armi poi Ci sono anche le armi Nove granate e tutto il resto Irilet invece è totalmente offuscato dalla sua magia A pieno potenziale Beh in realtà non a pieno potenziale Si è trattenuto Poteva farlo trascendente per Per esagerare E riuscite ad arrivare Alla base del portale Quindi Adesso Vi chiedo di Vi chiedo quindi di effettuare La prova per piantare l'esplosiva Iri, ci serve adesso Va bene Ti do una mano È una prova di tecnologia Da parte di Zane A meno che voi non mi troviate A una qualche altra Giustificazione Con il bonus di istruzione Con il bonus di istruzione di Iris Riguardo alle bombe E Irilet se ci vuoi aggiungere anche te Il tuo contributo puoi farlo Ok Zane hai Di otto dadi bonus E tre successi extra Ok Irilet Tu dove hai qualcosa Adarmi Una pacca sulla spalla Pomando per dirti come Se stai facendo qualcosa di sbagliato Forse istruzione Non istruzione Intelligenza generale Per accorgermi se stai facendo qualche errore Altrimenti puoi anche fare qualcosa Per aiutarlo in un altro modo Tipo controllando l'area circostante E cose del genere Per coprirlo O qualcosa di simile Ok Stavo pensando Gli passo gli attrezzi Quando gli tengo La flashlight accesa Non mi viene la parola in italiano La torcia La torcia accesa Sistema la macchina No vabbè Faccio un attimo Un controllo attorno Per vedere che non arrivi nessuno A meno che mi interessa Flashlight con la F No 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 Ok Quindi Irillet Quanto hai In percezione? 6 visiva 5 Altrimenti 4 Ok Quindi Zain aggiungi altri 5 dadi Alla tua prova Ok Quindi ho 8 di Iris 5 di Irillet Siamo a 13 Giusto? Più i tuoi Di tecnologia Ok Quindi 17 E 3 successi Se vuoi aggiungerci anche Anna E che cazzo E abbiamo anche 5 glorie 6 glorie adesso che puoi usare In casa Siamo a 14 Secondo me ci abbiamo parlato Molto bene Ci stiamo riprendendo dei tiri di merda Che abbiamo fatto inizio sessione Piantate Devo tirare gloria? No Secondo me vi servirà per andarvene di qui Piantate questo esplosivo Alla perfezione Ed è tutto pronto Lo potete detonare Tramite una trasmissione Vox E considerando il fatto che Uno dei tuoi zaini È un trasmettitore Vox Comportato a 100 km Significa che potete farlo Praticamente Da qualsiasi punto Anche dalla superficie del pianeta Ed esploderà comunque Yes Aspetta Lui ha un intero zaino Che funziona da trasmettitore E' un po' più che a pugno 3 Esatto Lui tecnicamente Ha un'enorme antenna Che gli esce dallo zaino Ed è comunque più invisibile di voi Ricordiamolo Quindi Qual è la vostra prossima mossa? Allora Potremmo usare il loro teletrasporto Però entreremo tipo Nel campo di battaglia Se lo facciamo Meglio di stacquare In realtà Anche quello è vero Si può ricalibrare Vogliano cercare Se no un modulo Per scappare Per ricarizzarlo È tutta un'altra cosa E Iris dovrebbe essere lì presente Sulla scena In bella vista In mezzo all'esercito Nekon Quanto ci vorrebbe per farlo Però Dipende da quanto tira alto Immagino Domanda Non possiamo fare una chiamata Alla Cassius Metallican E farci teletrasportare da lì Pino a qua Non può funzionare Sì no perché Troppo lontani Oddio Il vostro raggio di comunicazioni È solo 100 km Allora Forse è il caso Di prendere una navetta E dire E dire di non farci sparare Quanto siamo fidabili Con una navetta Nekon Zero Avrai un po' Di difficoltà A pilotarla Ma per il resto Il tuo ponteggio Di pilotaggio Te l'avranno fatto Alzare apposta Allora Effettivamente Zane e Irillet Sono in una posizione Perfetta Per essere Teletrasportati Direttamente sul pianeta E sono praticamente Invisibili Quindi anche se Fosse sulla superficie Potrebbero trovarsene Sto pensando Ok Entriamo dentro Portale Siamo teletrasportati Sul pianeta E poi cosa facciamo Siamo Nel mezzo Del campo di battaglia Dal punto Dalla parte di Nekon Quindi dovremmo Farci strada Per ritornare In mezzo ai nostri alleati Che non saprebbero Neanche la nostra identità E ci potrebbero Sparare addosso Soprattutto a me Visto che sono Uno Xeno E comunque Una volta arrivati lì Dovremmo aspettare Che poi arrivino Ania E Iris A raccoglierci Questo è vero Cioè ha senso Forse andare via Quella navetta Comunque rimane il problema Che io in Sian Devo andare via Quella navetta Rimane il problema Che la navetta L'unica navetta De Nekon Che ho a disposizione A tre posti Ah E se ci facciamo Piccolini piccolini No Non funziona così Vabbè ma Zane È uno Space Marine Lo buttiamo giù Dal finestrino È vero Zane può effettivamente Lanciarsi Giù dall'atmosfera Senza problemi Zane non può tipo Aggrapparsi alla navetta Mentre noi andiamo Ok Sì ma non è neanche un problema Perché ricordiamoci Il quarto zaino che ha È il paracadute gravitazionale Ok Però volevamo evitare Di mandarlo da solo Giù nel mondo Nell'atmosfera Ragazzi E se Ok Noi andiamo dall'altra parte Del portale Quindi atterriamo sul pianeta Facciamo esplodere la nave E poi chiede un passaggio A qualcuno lì Anche se siamo Il problema è che non è Che c'è qualcuno lì Qualcuno che c'è intorno a noi Saranno solo Nekon Cioè Noi andiamo in un campo di battaglia Cazzo E E E dalla Dalla parte dei Nekro Tipo nelle retrovie Nekro Non possiamo comunicare con l'esterno Attualmente Potete Quando E effettivamente ho detto che Se siete sulla superficie Potete comunicare Fin qua su La Frequenza per esplodere la bomba Se volendo potete provare A chiamare Le forze Della Detus Mechanicus A terra L'unico problema è che L'unico a farlo No effettivamente Ania può farlo Perché Quello che Zayn ha addosso È un ripetitore Quindi Così Zayn non deve parlare In mezzo all'esercito Nekron Perché ricordiamoci Zayn e Irillet Sono ancora Lì in mezzo alla stanza Con le truppe Nekron Che si spostano A torna loro Ok Voglio ritornare indietro Magari Zayn Non c'è tempo Quindi Ci riavviciniamo Agli altri Ok Fatemi un'altra prova Di furtività Stessa difficoltà Di prima Non resta La riserva furtiva Di prima No Era una prova Non era La riserva furtiva Io penso Io in questo momento Allora Adesso hai Due dadi in più Però Eh Buona Perché c'è occultartivo 8 e 10 Allora Ci siamo quasi Ok Avete sempre Sella di gloria Ricordiamoci Un tanto tiro Fatto Che adesso Use OPEC Evidentemente Non ho alternativa Aspetta Ok Io ci sono Io ci sono Quanti ne uso? Eh Quanta irai? Una Io ti consiglio Di usarne tre Eh Ti basta un solo successo Dai Su tre dadi Hai tipo Tante possibilità Di riuscirci E il terzo È quello che è contato Davvero Porca miseria Più dadi tiri Dai Più alte sole possibilità Dai Sì però Che cacchio Ok Ok Cura Meno male che ne avevate racconti così tanti Ok Quindi Irlet riesce a tornare indietro senza troppi problemi Zane Continui spostamenti delle truppe Ti bloccano lì in mezzo Quindi quando Irlet è ritornato al portone Zane ancora lì in mezzo Per un po' E È lì che quasi suda freddo Schiva una zampa Si sposta sotto una piattaforma Antigravitazionale Striscia in mezzo alle ombre Passa dietro a un'unità di soldati Necron Che si conta nelle centinaia E alla fine riesce nuovamente A marcare anche lui il portone Senza essersi fatto vedere In qualche modo Comunque lo spesma in bianco Gigante Che vaga per un campo di battaglia È invisibile Non è un campo di battaglia Però sì Su un campo di battaglia Probabilmente sarebbe più facile Perché sarebbero distratti Avrei anche qualcosa dove ripararmi Presumo Esatto Riuscite a tornare indietro A posto Ok ma dobbiamo trovare la navetta Ok Ok quindi Zane Tutti i lanci dal finestrino alla fine Eh vediamo Vediamo Ci sono tre posti addetto Mi lotto molto bene Ah Ne rubate due anziché uno Solo è questo Ah Ok va bene Ok in effetti è un'opzione Comunque dobbiamo trovarle Va bene Io ho di istruzione per capire dove sono piazzate le navette Non è così che funziona Io ho di tecnologia Se faccio sopravvivenza Penso che in questo caso sia più percezione Non accetto Non è investigazione Perché siamo al chiuso Volendo anche Io ho percezione più alta Io se invece utilizzassi Vista del profeta Potrei trovarla Se cerco per una decina di minuti Oppure È un po' troppo generico Beh puoi cercare Angar Ci metti dieci minuti Perché non sai neanche se esiste Però se esiste lo puoi vedere Ok Beh sono sicuro che esista Però non ho la Posizione approssimativa Quindi comunque sì Ci metto per forse dieci minuti Zain fammi la tua prova di percezione intanto Grazie Dai dai Ok Zain quello che noti È che non ci sono velivoli Che vengono teletrasportati Attraverso la porta Dovunque si trovino Non sono qui Significa anche che non devi tornare Per la terza volta In mezzo A tutte quelle truppe Per andare a cercare qualcosa Zain felice Io ho bisogno anticipo Sto disattivando entrambi Sì sì Lo avevo perspattato 8 Ok Il target è 6 Quindi volendo posso Scambiare anche uno Per aumentare di 10 volte La gittata Quindi diventa 50 km A 50 km Spero sia abbastanza Per coprire Gran path della nave Assolutamente La nave era 15 km in diametro Ok Ok Rimanete in attesa Magari ritorniamo Nella stanza delle statue Per farlo Ok Iris e Anya Voi volete fare qualcosa Nel frattempo Sono per fare dei tiri Però non credo Mentre In Leilet Cerca di Trovare la posizione Sentinella Se arriva qualcuno Perché io non mi posso muovere Se arriva qualcuno Ragazzi Va bene Va bene Va bene Allora Non ti puoi muovere Nel senso Non ti possiamo spostare No Nel senso che Non sono cosciente Di quello che mi succede attorno Ah Ok Allora ti prendo Possono anche spingermi E robe del genere Ma in teoria Non mi dovrei svegliare Se non sbaglio Ok Allora ti prendo con la pinza E ti portiamo in giro Le pinze Le pinze Ah no Aspetta Mentre mantiene la vista del profeta Per osservare il luogo presente L'opzione Non può muoversi Ne compiere azioni Degnaro di ciò Che luce inconda Non può muoversi Lo intendo come Io stesso Non posso muovermi Sì E compiere azioni Sì sì In quel senso Quindi in realtà Mi potete spostare No Può essere spostato Sì sì infatti Puoi essere spostato Se tu che non ti puoi muovere Sì perché altrimenti Nel momento in cui Usi vista del profeta Mentre sei a bordo Di una nave spaziale Viene scaramentato Contro Tra l'altro Dice anche Che questo potere È mentalmente faticoso E infligge Uno shock Ogni dieci minuti Di utilizzo Sì Quindi mi sa Che mi prendo Uno shock Dopo questi dieci minuti Per averlo utilizzato Siamo sicuri Perché l'attivazione È dieci minuti Anche in questo caso Quindi non penso Che conti Penso che inizi A contare Da quando viene attivato Ah ok Ok Ha senso Ha senso Quindi se lo mantieni Tengo per dieci minuti Va bene Sì Ok ok Cosa ci sei dire Della posizione Quindi Ok allora Tu stai Facendo questa cosa Voi altri Sentite Un suono metallico Avvicinarsi Nuovamente Va bene Spostiamoci Dietro Alle statue Ok Fatemi Le vostre Prove Di furtività Cazzo Io sono inerme Furtività 4 Quindi non ti peccheranno Noi abbiamo il bonus Però abbiamo il bonus Perché posso nascondere Sì Sì Ok Oh Non vedo sti tirini Di furtività Ok Ovviamente Nicola Ok Quello che vedete passare Di fronte a voi È Un altro Di queste Ma che carino Questa mi attacca Percezione più alta Di due sì L'hai fatto passare apposta Beh no È un veicolo C'è il tizio sopra Che è Sempre Nei con Gli do tre dadi Anziché due Facciamo Sembra Sai che cosa mi sembra questo Mi sembra un bionicle Vedi Cosa c'è bionicle ragno Sì Cazzo Bello verde Che poteva diventare Un elicottero Mi pare O no Sì C'era vero Che tristezza Che sono fallite Mica li hanno Li stanno ricreando In questo momento Se non sbaglio Li stanno ricreando In questo momento La nuova ondata Di bionicle Non lo sapevo Anch'io Io mi tengo informato Sul lego Sta tornando Perché abbiamo già provato A farli tornare Ma da quello che ho capito Non sono mai stato Grande fan di bionicle Quindi non conosco Tutta la lore La lore era deludente O quasi inesistente Ma io avevo Tutti i dvd Io avevo tutti i dvd De bionicle Da quel che ho capito Adesso ci stanno mettendo Un po' più di impegno Esatto Matanui ragazzi Unità Ovvero il destino Ok Purtroppo Iris E Ania Quindi vengono scoperte Con questo Veicolo Che è ovviamente Il Necron Che lo pilota Che si girano Verso di voi Mi guardai Mi guardai Le sue armi Le sue armi Si caricano Di quel bagliore Verdastro Molto inquietante Tipico di Necron Ma Zayn Volendo poi Gira per primo Perché è invisibile Vai Zayn Giustamente Ok Quindi Attacco A sorpresa Ricordati che hai Tre dadi bonus Madonna No Ho più di tre dadi bonus Perché ho anche Due dadi bonus Perché Ma i sete di Ligo Adesso vengono vendute A centinaia di euro Ma che cazzo Ho appena tirato 15 dadi Ho fatto 5 Non avevi I danni bonus Di Iris Però Perché l'azione Semplice La può usare Nel suo turno Oh cazzo Ehm Ritiriamo No Beh Avevi un successo In meno Semplicemente Quindi facevi 4 Per colpire Cosa colpivi Però Non mi dite mai Che cazzo fate Prima di tirare i dadi E quando vi chiedo Di tirare i dadi Ci mettete Allora a tirarli E dai Perché di fare Tu è un tizio Colpisco Il pilota Il pilota Colpisce il pilota Comunque Questa zona qua Centrale Allora L'idea è il pilota Ok Allora Io ti direi Di farmi una prova Di atletica Per arrivare Fin là solo Atletica sia Che hai 3000 In atletica Quindi non penso Sembra E invece Wow D'accordo Zane Riesci ad arrampicarti In cima Al veicolo È una colpa loro Che hanno fatto cagare Nella fruttività Sì Finalmente Un po' di karma Riesci A Arrivare In cima Al veicolo Ma Al momento Si stava ancora Girando su se stesso Con le zampe E questo Ti impedisce Di fare L'attacco In questo Stesso turno Ah Ma certo Quindi è uscito Dallo stealth Sì È davanti Alla Il lato positivo Di questa situazione È che il pilota Se vuole sparare Contro di voi Sparerà Ma ha ciecato Se invece Proverà a colpire Zane Non otterrà un cazzo Quindi io direi Che stava per sparare Ma Zane Gli è comparso davanti Così almeno C'è il rischio Che faccia qualcosa Perché si attacca a Zane Zane È un muro Di Ceramica Come ceramite E quindi non gli farebbe Assolutamente niente Allora Cosa abbiamo qui Treyarch Stalker Se non sbaglio Si chiama Questo affare Sì Treyarch Stalker Ha Un Raggio A calore Raggio A calore Pagina 133 Armin Eccolo Dov'è? Oh wow Ha la sua tabella S'è stante Porca troia Ok Qual'è la differenza Tra Disperso E Con focus Ok Dov'è uscire Proprio una delle armi Più Ok Ha fusione Submolecolare Come quello Delle armi Melta Ok Quando è un focus È Midrange Anti-armor Weapon Quindi come Melta Quando è disperso Funziona E Rilascia Una nube di plasma Che fa danno Numeriosi nemici A Distanza ravvicinata Ok Io direi che quindi Utilizza quello disperso Come se fosse Un lanciafiamme Ok Irelas Dove l'avete Ficcato Esattamente Ce l'ho io Lo posso mettere Davanti a me Vale come Somma di scudo Posso sommarlo Avanti Lo puoi tenere Davanti a te E in quel caso Riesco a far danno Anche a lui Come preferisci Anche a lui Merda Intanto vado a rileggermi Come funziona Colpire i nemici Con un lanciafiamme Che come al solito I lanciafiamme Hanno delle regole Tutte loro Per come funzionano Mi farebbe piacere Se non dovessi Subire Troppi danni Per loro subire Un po' Mi dispiace Ma tu non puoi parlare In questo momento Quindi La decisione Non aspetta a te Io in teoria Potrei vedere C'è un film Su Netflix Di Bionicle Ma io sto ancora Cercando roba Su Bionicle Comunque potrei vedere Il mio corpo Martoriato In terza persona Volendo C'erano tre film Sui Bionicle E lo so Ho mandato la foto Su Discord Del terzo film Che è quello Che mi ricordo meglio Che di sicuro Avevo il DVD Questo è quello In cui i eroi Vengono trasformati In Arach Quindi ho una cosa Che erano i Visorak L'unico film Che non ho mai visto E invece era il mio preferito Che c'era tipo Quei Vabbè Ne riparlimo Il mio preferito Era quello Della maschera di luce Che va a far niente Ah Era il primo Forse Sì Ok Quanto è la vostra difesa? Sì Due E vabbè Anya non gli importa Perché ha sei Iniziativa Quindi Vi ho mancato Come ho detto È accecato Dalla presenza di Zain Davanti ai suoi occhi Quindi aveva più due A questo attacco Quindi Il getto di plasma Che parte dai suoi Non è proprio Un lanciafiamme Sono raggi di calore Si spargono Nelle statue Accanto a quella Dietro a cui vi siete Nascosti voi Ma non vi danneggia Tocca a voi Ok Zain è andato Capitano Anya Vada a lei Per favore Se no Sparo io Va bene Sparo io Visto che nessun C'è niente Questa è che comunque Cambia molto Allora Anya 12 Per colpire C'è il rischio Di colpire Zain Ma solo se fai Una complicazione Vabbè ma se colpisci Zain Non mi fai niente No Lo vaporizzo Ne Ok Va bene Lo vaporizzo No Wow Yes Finalmente Tutte le regole Che non ho potuto applicare Ci credo Aspetta un attimo Io non ho niente Per ignorare le complicazioni No No Penso di no Ok Zain Pari o dispari Pai Dispari Ti ho colpito Non l'ho capito Ma ok Beh se usciva il tuo numero Andava a tuo favore Quindi non ti colpivo Però è uscito dispari Ok mi è colpito Ok Ok quindi Un dieci basta A colpirti Immagino Sì Sì Posso scambiare Sì puoi scambiare Per aumentare il danno Su di lui certo Su No Sul tizio Non su Zain Per favore Ormai ho colpito Zain Hai colpito Zain Purtroppo Cazzo no Non hai mai Coppato Nessuno E non ti faccio Scambiare per gloria Per aver colpito Il tuo compagno Di sicuro Che cazzo Tira per i danni Mi dispiace Zain Tanto tu Tanto non subirai niente Lo so già Quanto V2 danni Quanta VPA E la tua arma Due Meno due E che palle Però E quindi sono Quattro Ok Meno male Zain Alla schiena Attraverso tutti i tuoi Quattro Zaini Senti arrivare Un bruciore Terrificante L'arma che è stata Utilizzata Per vaporizzare Un'intera unità Di Necron Ti ha appena colpito Alla schiena E ha Quasi evaporato Anche la tua armatura Che per fortuna Però ha retto Vedi Zaini Che si Che è attaccato A sto cosa Gira la testa Tipo Gufo Chi cazzo è stato E guarda E guarda Iris E guarda Iris I rilet I rilet So che è colpa tua Ania Tocca a te L'abbiamo mai colpito Questo coso bene Dico Il veicolo No Il pilota Non ancora Una risposta Era No E basta E mi castro Di nuovo Al potere zionico Ok Ok Di un pelo Ti raddoppia anche La velocità Giusto? Sì Ok Allora tu volendo Puoi riuscire Ad arrampicarti Fin lì Senza dover fare La prova di atletica Oh bene Allora mi arrampico E posso fare anche La seconda azione O no? Sì sì Ok E prova a colpirlo Non con questo Praticamente la situazione È questa Porca vacca Ma perché faccio così Cagare? Ah Iris Poteva utilizzare Iris Poteva comunque Utilizzare la sua azione Semplice Per dare a tutti Un bonus Quindi hai anche Tre lali aggiuntivi Ok Tiro tre lali aggiuntivi Però comunque Ho fatto La complicazione Yes Puoi tirare Ira Ok Sette per colpire Hai colpito Sto tizio Sì La difficoltà Visto che è nel veicolo È aumentata di due Quindi è come se Adesso è difesa tre Abbiamo detto Che hai dato Che sto dando Un potere zioni Con un bonus Ah sì Quindi è un altro più due Quindi era Cinque per colpirlo Puoi comunque Scambiare uno Per cosa Gloria Gloria Ok Tira i danni L'hai colpito La guarda abbiamo adesso Quattro Ho la complicazione Però Sì sì Tranquillo La complicazione Si applica dopo I tatti Quanto danno 22 Ok Scusate Mi prendo un occhio Ok Quanto Quanto saluto Come vestiamoci Con la sua pelle Di ferro Pitano Credo che Non sia Fattibile Jane Vengo a darti Un'occhiata Alla schiena Colpa Di Leggio Io Mi spazzo La testa Non avevo Il fangelo Ok Ok Ania Fammi un tiro Di artigianato Tipo Oh buono Ania La tua spada Dopo questa cosa Si spegne E vabbè Per Per il tiro Di Iris La complicazione È che Ci vuole un po' Per curare le ferite Ma Jane Curi tre ferite Bene Non ho capito Devo fare il tiro O no? Sì Fammi un tiro Di qualcosa Non c'è l'artigianato No che non c'è l'artigianato L'atletica No Fammi Tecnologie Tecnologie Ok Bene Lavorandoci un po' Mentre Attendete Che il rillette Abbia finito Riesce effettivamente A ricavare Una sorta di Elmetto Dalla testa Del Necron È più una maschera Però Perché La faccia Di Necron È Allungata È stretta Quindi Non è Una Perfetta Non puoi indossarlo Effettivamente Come un elmo Però puoi attaccarlo All'elmo Che già hai Perché ricordiamoci Che siete tutti In armatura potenziata Beh Quella di Rillette Non è potenziata Ma è comunque L'armatura Della madonna Bene E tra l'altro Vorrei farvi notare Che adesso Avete un carro armato Oh figata Volendo Figata Ci salgo sopra E vediamo Se riesco a usare I comandi Fammi una prova Di pilotaggio Ah non tecnologia Va bene No In questa casa È pilotaggio Bene Pilotaggio È per vedere Se riesci a capire Come pilotarlo Ok Direi che Con un po' di pratica Puoi effettivamente Muoverlo in giro Ok Abbiamo un cazzo Di carro armato Che bello Questa cosa Me la porto a casa Ci sta nella nubetta Eh Non penso Se ci stavamo A malapena in tre Oh peccato No Purtroppo non ci sta Però di sicuro La puoi portare Sulla Kestos Metallica Saranno contenti Di avere Un trofeo di guerra Molto bene Irillet Tu finalmente Dopo tutto questo tempo Riesci a visualizzare La posizione dell'hangar E sai esattamente Dove trovarla Ci sono Numerosi Caccia Doom Sight Quindi Falci del destino Che sono Questi qua Che riconosci Perché Lo stesso modello Che avevate incontrato Nella raffineria Ok E c'è tanta gente? Ci sono un po' Di necron in giro Ma non quanto Quello delle armate Perché principalmente Questa cosa Ha un pilota E poi Come opzionali Ha Uno spazio Per la crew E uno per un passeggero Che non so se è un errore Del manuale o no Perché secondo me Non ha molto senso Che abbia spazio per Una crew E un passeggero Però Chi sono io Per dirlo Secondo me Hanno semplicemente fatto Copia e incolla Della scheda Che c'era sopra Che è anche quella Alla stessa cosa E basta Però Questo c'è scritto E questo E questo Lo accetto Per questo Per questa avventura Ci basta Ci basta Ci serve Che abbia Questa informazione Ok Irillet Esci dalla tua trance E vedi Iris Che va in giro Su un gigantesco Ragno meccanico Ania Che indossa Il teschio Di un necron E Zain Che ha un'enorme Bruciatura Sulla schiena Beh Mi sembra Che sia tutto normale Immagino Non sia successo Niente di interessante Quindi Vi dico A tutti i ragazzi Da questa parte Ho visto la strada Va bene You know the way Che tristezza Nessuno che ha La contro L'accelerazione No Ho messo un po' Però non ho capito Ah Aspetta Ugandan Narcoles Yes Ok Molto credibile La via La via Bene Proseguite quindi Verso La posizione Dell'hangar Che si trova In una zona Un po' più esterna Verso Il lato Della Cairn Messo Messo così Il lato Sembra parte Della statua Perché ha Il cazzo Verde Sì Arrivate quindi Dopo un po' di tempo In questo hangar Ovviamente quasi Mezzanotte Quindi ci avviamo Alla conclusione Della sessione Con Iris Che cavalca Sempre questo ragno Meccanico Molto Incospicuamente Come vi Appropriate Dei vostri mezzi Siete scuri Che non c'è Una navetta Abbastanza grande Da tenere Dentro il ragno Io faccio Una dichiarazione Narrativa E dico Che semplicemente Non c'era nessuno A proteggere Quei mezzi In particolare E quindi Facciamo Li hackeriamo Facilmente D'accordo Trovate Un paio Di mezzi Che erano In riparazione Da parte Di alcuni Canoptek Scarabs Che riuscite facilmente A eliminare Con le vostre Armi da fuoco Tuttavia O altre armi Tuttavia Questo attira L'attenzione Degli altri Necron Ma Iris Gira Il suo ragno Verso di essi E con un paio Di colpi Ben assestati Può Costringerli A mantenere Le distanze Come vi Dividete Quindi Su questi Deliboli Io penso Che seguirò Iris Non soltanto Perché ha Tanto Pilotaggio Ma Principalmente Per quello Sì Va bene Quindi Tu vieni con me E Ania Va con Zain Zain Quanto hai Di pilotaggio Oh io Pilotaggio Dove 5 5 5 Ma io 3 Io ho 7 Non è che sia più di tanto Mi sa che Zain Mi sa che Zain Va da solo Io ho 4 Quindi Non Wow Mi va bene Chiunque Chiunque Ok mi va bene Chiunque Tranne lui Ok Beh visto che ha Tre posti Io direi che La maggior parte Ma con Iris E Zain Prova a pilotare Da solo Tanto si precipita Ai paracadute Ma poi può sopravvivere Anche nello spazio Infinito Infinito Perché se fosse finito No Anche se fosse finito Sopravvivere Sì Tranquillamente Bene Fatemi Le vostre Prove Di pilotaggio A difficoltà 3 Faffanculo Zain Io 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 Hai anche Gloria Abbiamo 5 Gloria Volendo Tirane Tirane 3 Ricordo E3 Ma tirane anche 5 Di gole Mezzanotte Ricordatevi Che è 3 Ha aumentata Di 2 No Tira prima Gloria Iris Tira 5 Di gole Tira Ma io Magari Ci serve Dopo Va bene Va bene Va bene Quanta Gloria Avete De ben 5 Tirane 4 Tirare 5 E mezzanotte Ma magari Una Ci serve Sempre L'ha interagendo Con una spiritomacchina No Incredibilmente avete scommesso L'ho detto Soltanto la tecnologia umana Di space macchina Incredibilmente avete scommesso Sul cavallo sbagliato Perché Zain Senza alcun problema Prende comando del velivolo E sfreccia fuori Dall'hangar Senza alcun minimo problema Mentre vedete che Iris Le manca davvero tanto Il suo ragno meccanico Quindi iniziamo a Però mettere la retromarcia Inizia ad andare verso i Necron Che vi stanno sparando addosso Un pack Non fidare di Zain Posso usare Finalmente 1, 2, 3 4, 5 Anche i dadi di Gloria No I dadi di Gloria Non si possono ritirare Va bene Ho 7 Con critico anche te 8 8 Scusate Il 7 Quindi un punto Gloria Fine sessione Ce l'avete comunque Bene Dopo Dopo essersi reso conto Dell'errore Anche Iris Sfreccia in avanti A grande velocità Questi caccia Hanno Turbo Boost 16 Il che significa Che se andate Alla velocità massima Si muovono A 16 volte La velocità Che è segnata Sulla scheda C'è anche il problema Che Non hanno Una Non hanno Il parabrezza Perché sono veicoli Necron Che non hanno bisogno Di respirare Ma voi tutti All'interno di questa nave Non c'era assolutamente Atmosfera E voi tutti Avete le armature Sigillate Quindi non è troppo Un problema Quindi volate all'esterno Nello spazio cosmico E sentite L'assoluto silenzio Tuttavia Dovete ricordarvi Che Dovete far detonare La bomba Prima di allontanarvi Di 100 km Ovviamente Il comando C'è l'aria Ok capitano Faccia saltare Così Poi Ce ne andiamo Siamo a 100 km No Quando arriviamo a 99 La fai saltare Infatti Sì A 99 Boom Ok Bene 99 e 1 92 92 Bene Appena esplode Partiamo col boost Non sentite niente Ovviamente Ma Chi di voi Non è Nella cabina antipilota Può guardare dietro E a un certo punto Vedere un aumentare Della luminosità Della luce verde Della piramide Seguita poi Da un Perentino Spegnimento E poi Da un'enorme crepa Che apre a metà L'intera astronave Dopodiché La nave Scompare nel nulla Non in maniera Troppo dissimile Da quello che avete visto fare Ai soldati Necron Quando li avete sconfetti Ci sono alcuni caccia Che sono riusciti A lasciare L'hangar Prima che si Spostasse Via Dall'orbita Del pianeta Per inseguirvi Ma se adesso Andate alla velocità Massima Non riusciranno A raggiungervi Prima Prima Che voi raggiungiate I vostri dati Quello che vi chiedo È dove volete andare Adesso Contattiamo la Kestus E diciamo Se possiamo Entrare Ma non possiamo Ritornare Sulla nave Dell'inquisizione Sì E poi Entriamo in orbita Con la nave Dell'inquisizione Va bene Vuoi portare in orbita La nave Dell'inquisizione L'inquisizione È già nell'anello Di Avacros Ah ok Quindi tecnicamente È già in orbita Ok Quindi possiamo Scendere nell'orbita E salire Sulla loro nave Direttamente E tutta Questa avventura Si è svolta Nell'orbita Di Avacros Va bene Allora intanto Contattiamo Contattiamo le autorità Dice Noi abbiamo fatto Saltare in aria La nave Adesso Attacchiamo Poi scendiamo Sul pianeta Dobbiamo comunque Prendere i titani Ok Bene Ed è qui Che possiamo Concludere La sessione Di stasera Con due Due caccia Necron Catturati E La Il danneggiamento Del Della loro Nave ammiraglia Cosa che Faciliterà molto Il lavoro Per le troppe Di superficie Adesso che Non riceveranno Altrittanti support Altrittanti rinforzi Quanto prima Spero che questa Missione di infiltrazione Vi sia piaciuta Ho cercato di renderla Un po' diversa Rispetto a quelle del passato Quindi concentrando Molto di più Sullo stealth È stato divertente E sulle tattiche Di guerriglia E Appunto Di disturbo Visto che avete Utilizzato anche Gli esplosivi Bravo che si è piaciuto Praticamente a me E a Irile Finalmente ho potuto Utilizzare Il suo pieno potenziale Occultare Intanto se volete Vi faccio vedere Cosa stava succedendo Sul pianeta In particolare Tra l'altro Le immagini di Titani Sono in scala Se scendete Questo era il campo Di battaglia Dove vi sareste Teletrasportati Se aveste Varcato il portale A bordo De Acairna Ovviamente Questa è soltanto Una piccola parte Da battaglia Però Vedono vedere Gente Con i car armati Combattere contro Genente Con i cannoni laser Esattamente Gente Che utilizza Queste specie Di Moon Knight Come aerei E gente Che invece Ha degli aerei Che sembrano Usciti Quelli dei fratelli Wright Si Si chiamano Archeopter Appunto Perché hanno Un aspetto arcaico Io mi sono innamorato Di questo affare Che è praticamente Un granchio Con un enorme cannone E sai che cosa Ci starebbe meglio I granchi Un enorme cannone Sulla schiena Beh in questo caso E al posto Di lecchere Bene Beh Su uno scorpione No Anche Ma diciamo Che un cannone Sta bene ovunque Ovunque Esatto Vuoi mettere Una forchetta Che in realtà È un cannone Un tavolo Che in realtà È un cannone Una casa Che in realtà È un cannone La prossima sessione Ci concentreremo Un po' Sulle trattative Per ottenere Il supporto Dei titani E sui preparativi Per il vostro Viaggio finale Ci stiamo avvicinando Davvero al finale Di questa campagna Ma quindi La prossima sessione Sarà piena Di burocrazia Più o meno Sì La parte più divertente Di ogni gioco La burocrazia A me piace A differenza Di quella reale Si capisce Più che altro Spero che ci sia Un po' Più di roleplay Perché ho la sensazione Che da tipo Quattro Cinque sessioni Che non fate altro Che combattere Senza parlare A parte Irillet Con i suoi E il bario Ogni tanto Ci sarà di sicuro Tanto roleplay E soprattutto Tanta iniziativa Da parte di Nicola Che dovrà Carriare tutti noi Perché è Quello con più Comando Influenza No sei tu con più comando In realtà Però Eh ma però Sarò Quello con meno influenza Nel gruppo Sì sì In realtà In realtà Mi sa che siete Più alta voi Comunque Sì Ma a parte Zane No ma è che La via altissima È uno Già Uno con più Di ore della cd Ricordiamocelo Significa che La prova minima Per tutte le sue prove sociali È tre E lui ha un dado Ok Se volete dire qualcosa Prima che concluda La registrazione La parte La parte migliore La parte migliore della sessione È stata quando c'era Iris che non riusciva a volare Cosa mi ha fatto morire Quello che è appena successo Irene Aspetta sto guardando Nello smash of pass Che è del video Irene dove l'abbiamo messa Per quello che ha detto Loris Loris ha detto Vulcan E Irene Come miglior Ibrain Ibrain è la fidanzata di Gilliman Ah allora Ibrain ci sta Secondo me Anche come personaggio femminile Ma Vulcan È troppo verde Ma è perché lui Tu non hai letto Tutti i suoi commenti Il suo capitolo Slash legione Sono I salamanders Quindi Per lui Vulcan È il mio Gilliman Ok Ok dai Siete un po' di parte Sì tra l'altro Mi dispiace che I timestamp Non si vedano Nel video Ma a quanto pare YouTube ha un limite Che oltre i 100 Non te li fa più vedere E ovviamente Beh li puoi vedere Come commenti Tanto Eh ma non è la stessa cosa Non compaiono a schermo Bene E con questo Penso sia tutto Ci vediamo Settimana prossima Va bene Ciao ciao Ah tra l'altro Raggi è l'epifania Me ne lo dimenticavo Non più È il 7 La setta notte La mezzanotte passata È il 7 La setta notte passata Che cazzo sto dicendo A settimana prossima Allora Bye Ciao ciao Notte notte Ciao Vai Nicola Salute Notte a tutti Ciao Ciao Grazie.